Buonasera, sono Tamara, parlo l'unico del movimento Agente Rosse di Atria, via Reggio Emilia provincia che in collaborazione con i comuni di Castellarano ha organizzato questa serata. Il movimento Agente Rosse nasce per l'iniziativa di Salvatore Borsellino a seguito dell'attentato al fratello Paolo e ai cinque agenti della scorta Agostino, Vincenzo, Walter, Emanuele e Paolio. Avvenuto il 19 luglio 1992 in Via D'Amelio a Palermo. Il nome Agente Rosse è dovuto al diario, il diario rosso da cui Paolo difficilmente si separava e soprattutto dopo la morte di Falcone vi annotava continuamente a conti. Dopo l'esplosione la valigetta fu ritrovata intatta, con anche il suo contenuto, ma la legenda rossa non via la braccia e non fu mai più ritrovata. Il gruppo di Via Gemilia ha scelto di chiamarsi Rita Atria. Rita è una ragazza di Bartanna. Bartanna è un paese, una provincia di Trapani, che cresce in una famiglia mafiosa e all'età di soli 17 anni decide di collaborare con la magistratura per cercare giustizia all'omicidio del padre, morto, perso a soli 11 anni e hanno incidito il fratello. A raccogliere le sue testimonianze è proprio il giudice Borsellino, al quale si lega come andare. Le posizioni di vita e le altre testimonianze permettono di arrestare numerosi mafiosi dei paesi di Bartanna. Borsellino però era l'unica figura a cui lei, era l'unica persona di cui si fidava e dopo una settimana della strada di Via Gemilia non regge psicologicamente e si uccide lanciandosi in vuoto da settimo piano di un palazzo a Roma dove viveva in segreto. Questa piccola introduzione va doverosa per spiegarvi chi siamo, chi è il movimento Agenda Rosse e per spiegare un po' le nostre origini. L'obiettivo di Agenda Rosse è quello di diffondere la cultura della legalità, del rispetto, della trasparenza e dell'antimafia. Ora passo subito ad una cosa che si dovrebbe fare alla fine ma volevo farlo subito, sono i ringraziamenti. Intanto ringrazio tutti i presenti per essere venuti perché capisco che sia un tema che non ha molto epil di solito, non ha molto fascino per cui insomma non ti ringrazio in particolare molto e soprattutto il punto di vista della mano che ha permesso la realizzazione di questa serata. Credo veramente che sia importante che questa sera siate qui perché abbiamo avuto un processo di così grave portata e importanza nella nostra piccola gemiglia che però è sconosciuto alla maggior parte. Sono andate cose di cui non ci siamo minimamente resi conto come incendi, estorsioni, intimidazioni, omicidi e anche guerre tra clan. Per un processo che è stato secondo per importanza per numeri e grandezza solo al maxi processo, iscritto da Giovanni Pocone a Palermo, avrebbero dovuto fare anche delle televisioni, delle trasmissioni continuamente ad hoc. Invece per assurdo si è parlato di più del delito di Cogne, con tanto di plastico, da Vespa, di Sarascanzi, di Zio Michele e non del secondo processo più importante in Italia. Se ne è sentito parlare un po' dei tipi locali, mentre i titici nazionali hanno riportato la sentenza del giudizio di primo grado, probabilmente solo perché era coinvolto un ex capeta del mondo di apeta. Riteniamo che tutto ciò sia davvero increscioso e in un paese che vada di essere democratico, emancipato e civile crediamo che questa mancanza di informazione sia una grave minaccia alla democrazia. Per questo motivo Agenda Rosse di Reggio Emilia si è fatto carico di promuovere sul territorio la deduzione dei numeri e dei fatti principali che ha caratterizzato il processo, avvalendosi di un professionista di tutto rispetto, Paolo Bonaccini. Paolo ha partecipato a tutte le udienze del processo Emilia, è in qualità di viato per la CGE di Reggio Emilia, scrive per il padre di Tiviano ed è autore del blog della CGE dell'Emilia Otre a Emilia e ha da poco terminato il libro di 100 storie di Emilia. E potete trovare comunque anche questi libri ambientati. Prima di passare la prova c'è una piccola riflessione sulla data di oggi. Oggi è il 9 di mancio e anche se questa data è stata scelta a caso, per coincidenza di disponibilità varie di tutti noi, vogliamo ricordare che oggi è l'anniversario degli omicidi di Peppino Impastato e di Aldo Moro, avvenuti entrambi il 9 maggio del 1978. Impastato, anche gli nasceva in una famiglia manfiosa, ma anche ripresso i raccordi con questa fondando un giornalino e Radio Out con cui denuncia i crimini e gli affari dei mafiosi di Cinesi e in primis di Tampadaramenti. Questo ne segna una condanna a morte. Aldo Moro, invece, partente alla democrazia cristiana, coordinato più volte il prescritto del Consiglio di diverse legislature negli anni 60-70, fu ritenuto colpevole di aver aperto il dialogo alla sinistra, per questo fu rapito dalle Brigate Rosse. Lo Stato non si è accorto con le Brigate Rosse per salvare Moro, però tratta fuori con la macchina. Dopo 55 giorni di vicinia Aldo Moro fu ucciso. Ora passo la parola al Comune, nello specifico Cassandra o il Sindaco. Dopodiché lasciamo parlare Paolo. Grazie, buonasera a tutti. Parto anche con i ringraziamenti che ci vediamo di dare l'attività c'è qualcuno, anzi cercherò di essere venuto. Ringrazio veramente Paolo per la presenza e per la professionalità che mi riporterà rispetto all'analisi e alle riflessioni che sono qua chiamati stasera, ringrazio la gente rossa e anche io, ringrazio le forze dell'ordine anche perché in questi giorni si sta lavorando tanto sul territorio anche in queste ultime settimane, in realtà anche su temi che hanno un'attività col tema che andremo a toccare stasera, non tanto rispetto in questo momento alla perversività del fondo, ma a volte anche per alcune aderenze, diciamo così, e mi viene in mente il grande lavoro, ad esempio, fatto da quest'estate che ha portato alla chiusura, una sala scommessa abusiva, poche settimane fa probabilmente l'avrete letto sul giornale, di questo anche pubblicamente rendo merito e grazie anche al lavoro che è stato fatto con loro, con la Polizia Municipale, anche perché è stato un lavoro che è cominciato già a luglio dell'anno scorso e spesso è quel lavoro che non si vede ma si vede solo alla fine, quindi credo di approfittare anche di questa serata pubblica per ringraziare anche loro per il lavoro che fanno e soprattutto per la collaborazione stretta che hanno con noi. Chiusa questa parentesi, è una giornata importante, non dilungherò rispetto alle coincidenze della data che sono oggettivamente anche significative rispetto a quello che andiamo a approfondire. Il processo Emilia segna la storia della nostra comunità provinciale, della nostra comunità regionale, anche da questo punto di vista, perché le propagini di queste indagini sono propagini che dalle terre di Reggio Emilia si propagano anche nelle regioni limitrofe, tra poco vedremo anche uno specifico immagino con Paolo di queste questioni. Il processo di Emilia, come è stato già ricordato, è stato un processo di mafia più importante nella storia d'Italia, ma è venuto nel nord Italia, questo senza tema di smentire, senza discussione. È stato un processo in cui i numeri, in cui sentivo che Paolo ha partecipato a tutte le evidenze del processo Emilia, sono un paio, siamo a più di 195, però è rimasto un po' di niente. Quindi congratulo anche per l'impegno non scontato e non comune con cui ha seguito questo processo. Ne parlavo poco fa con Generosa e con Paolo, la vera capacità che stiamo cercando di mettere in campo come pubblica amministrazione del post processo Emilia è quella di cambiare anche registro rispetto ai due anni di mezzo di dibattimento, nell'aula pubblica speciale, anche quella perché non esisteva un'aula pubblica che possesse accogliere tutte quelle persone, tutti gli imputati, se non sbaglio, sono 146 che sembrano imputati di quel processo. Quindi anche quello denota il fatto di quanto grande sia stato quel processo e quanto importanti siano stati quei numeri. La vera sfida è quella di cambiare anche registro rispetto a come si è continuato a raccontare anche questi due anni in mezzo di dibattimento. Io credo che il momento in cui è arrivata la sentenza, una sentenza anche qui storica, una sentenza, io ero in aula come Paolo, la giornata in cui hanno letto non il dispositivo della sentenza ma la sentenza in sé. L'hanno declamata, mi sembra che ci aveva messo più di due ore un quarto a leggere soltanto la sentenza. Il dispositivo, come facevamo di vicino a paglia del dispositivo, tanto per essere chiaro, ha combinato bene per più di 1.200 anni di carcere, più di 120 condanne, a cui va associato peraltro un rito abbreviato, un rito di parte bolognese che altrettanto ha avuto un rito più veloce ma vanno sommate i due processi giudiziari in corso. La sfida è proprio questa, è quella di analizzare soprattutto, ne parlavamo anche con il pieno di Mescolini, è stato il pieno di quel processo da oggi il procuratore della Repubblica, appunto a Reggio Emilia, la vera sfida è quella di saper raccontare quella mole di dati che è una mole di dati oggettivamente impressionante. Nessuno di noi, le istituzioni in prinsa, avrebbe la capacità di prendere tutta quella mole di dati che è uscita dal dibattimento e fare una sintesi dei punti chiave di quel processo, vista proprio la vastità di quel processo. E ovvio che ci sono gli elementi verimenti, leggendo anche il libro, mi ha parlato fortunatamente delle scorsioni a cui ho cominciato a leggere da pochi giorni, qui cominciano a essere più da toccati in maniera meritoria e pregevole quelli che sono alcuni dei punti fermi, credo che tutte le nostre comunità provinciali debbano riuscire a mettere a fuoco. Non è un percorso semplice, perché l'amore di dati, l'amore di informazioni è veramente oggettivamente molto, molto, molto vasta. Gli stessi avvocati dei processi molto spesso ho avuto la fortuna di confrontarmi anche con loro durante le audienze, molto spesso non era semplice inquadrare quella che fosse la situazione rispetto a un dibattito così ampio. Ed è per questo che spero di queste iniziative siano fondamentali. Avere qualcuno che ha seguito da vicino il processo, che ha capito, che ha messo a fuoco i punti fondamentali di quel processo, che riesce a trasmettere a noi, riesce a trasmettere la cittadinanza, riesce a trasmettere anche a chi è impegnato nella costruzione quotidiana delle nostre comunità, credo che sia l'elemento fondamentale con cui poi analizzare noi stessi la situazione, analizzarla uno per uno, analizzarla come cittadini da questo punto di vista e poi riversarla anche nella vita quotidiana e perché no anche nella vita comune di costruzione delle nostre comunità. La frase più infelice da cui partì tutto questo, ci ricordiamo probabilmente tutti, era legata agli anticorti, ai famosi anticorti, perché qui intanto noi abbiamo gli anticorti, qualcuno diceva. La frase è stata evidentemente smentita, è stata smentita grazie a un lavoro importante anche delle istituzioni, mi permette di dire. Antonella De Miro è una delle persone che ha scritto la prefazione, Antonella De Miro è l'ex prefetto di Reggio Emilia che attualmente è a Palermo e che ha avuto la cittadinanza onoraria, bisogno fare nel 2015, dal comune di Reggio Emilia e che è realtà venuta a ritirare nel 2019. Perché? Perché in quel Consiglio Comunale si deve una persona a lei schiavita, politicamente, che tratta d'interno di battimento Emilia. E anche questo credo sia un elemento da sottolineare rispetto alla fermezza che anche le istituzioni hanno avuto lungo questo percorso e non in ultimo, anche in quell'esempio che è un esempio non rituale, come si sceglie di mettere davanti la legalità anche a posto di creare degli strappi, si mette davanti la legalità anche facendo delle azioni amministrative che hanno portato in questa provincia, in cui davvero va dalla chiusura, anche a degli atti formali come i protocolli che esistono qui, che esistono in provincia di Reggio Emilia, a cui anche il comune di Castellano ha aderito, ad esempio in materia di lavori pubblici, ad esempio in materia di edilizia urbanistica, che tendono magari a volte anche a far diventare un pochino più farraginoso, se vogliamo, il meccanismo, ma a fronte però di un principio di legalità che ci vede tutti quanti i protagonisti. Quindi fare il mezzo passettino indietro dal punto di vista amministrativo, che perdonatete il paragone, per farne due mani dal punto di vista della sicurezza, dal punto di vista della legalità, per cercare di far crescere davvero quegli anticorpi che evidentemente, come dimostra questo processo prima e vista il nuovo mistero. Io vi ringrazio anche per la partecipazione numerosa, vi ringrazio nuovamente il Movimento delle Agende Rosse per la pregevole iniziativa che siamo orati ad ospitare. C'è la parola a Paola e ancora vi ringrazio. Buona serata a tutti, sottoscrivo le parole del Sindaco, vi dico solo con una battuta che sugli anticorpi, la tutto più felice l'ha fatta una collega, Rossella Canabè, giornalista della Gazzetta di Mantua, cara dica, molto brava, che segue il processo equivalente al processo a Emilia, da noi, che è il processo Pesci, che si stava fuori da Mantua, ma che riguarda le infiltrazioni della cosca della Galacchia Sardegna, che abbiamo noi anche nel versante della bassa bombardia, perché non è che si fermavano sul po' e non potevano andare. E lei dice, ha scritto un libro molto bello, poco criminale, che dice, credevamo di avere anticorpi e non ci siamo mai misurati la fibra, se ci fossero misurati la fibra, avremmo trovato, eravamo sopra i 40, altro che anticorpi, rischiavamo di schiattarli. Detto questo, io vi faccio un'introduzione, spero non tanto lunga, perché a cui mi piacerebbe molto, perché magari se vi fate le domande o vi vedete quali sono le cose che preferite di approfondire, i temi rendo anche meglio, perché la materia è sconfinata. Ho un po' di slide. Domani c'è la presentazione del libro che l'ho scritto io, ma è una parte, devo dire, di un impegno di un lavoro collettivo della Camera del Lavoro di Recepoli e della Romagna, anche quella nazionale, in questi anni, la postazione del libro di Susanna Camusso, perché tutta la CGL ha, come dire, svolto secondo me come dovrebbe essere il ruolo della parte civile, cioè di chi è danneggiato, la presenza della brangheta non si limita ad aspettare una sentenza, ma vuole essere protagonista dei processi, quindi chiamano un giornalista per raccontarlo, manda i suoi delegati, i suoi lavoratori in aula, nelle udienze per fare sentire la presenza della società civile, fa tante iniziative in giro per il territorio per cercare di fare la prima cosa che dobbiamo fare, divulgare le conoscenze. È complesso e difficile, ma se non facciamo questo passo in avanti, se non cerchiamo di capire cosa è successo, perché, quali sono state le conseguenze, non riusciremo ad affrontarla domani, questa grande sfida, e dovremo affrontarla anche domani, adesso vedremo con le slide anche perché. Ho iniziato, in questa prima slide ci parla di una vittima della mafia siciliana, perché appunto, come è stato ricordato, oggi è l'anniversario della morte e l'uscizione di Peppino Impastato, lo stesso giorno in cui veniva ritrovato il cadavere di Aldo Moro. Peppino Impastato è un giornalista che viveva a Cinti, un bellissimo paese, non lontano da Palermo. Io ci sono stato pochi giorni fa, perché ero a Palermo a parlare di Indrangheta in prefettura, sono tornato lì, c'era stato l'anno scorso, nei 40 anni, dell'anniversario della morte di Peppino Impastato, che è stato ucciso nel 1978, a 30 anni era morto, è nato nel 1948. E Peppino Impastato era un giornalista, un giornalista che diceva questa frase, l'informazione è resistere, resistere e preparare i pasti del cambiamento. Ed è una frase molto bella, tutti noi abbiamo dovuto resistere, ed è stato così, non è che l'ho fatto io, è perché l'anno scorso lo Stato ha deciso di dedicare due francobolli, una a Peppino Impastato e un'altra a Don Pino Puglisi, un'altra persona che ha dato la vita per cercare di stare vicino ai ragazzi, in difficoltà, in quartieri degradati e contaminati dalla mafia a Palermo. Ed è bella anche la sua frase che mi ha portato in questo francobollo, non ho paura delle parole dei violenti, ma del silenzio degli onesti. E anche noi siamo stati troppo zitti, non perché eravamo collusi, forse qualcuno c'era, era di collusi, cioè di gente di qua che ha fatto affari con l'andrangheta. Ce n'erano purtroppo tanti, ma la maggioranza non era collusa, la maggioranza non sapeva, non capiva, non voleva vedere, ci sono tutti i gradi che vogliamo in mezzo. Siamo stati troppo in silenzio, è di ora che facciamo sentire la nostra voce. E ora facciamo sentire la nostra voce come loro fanno sentire la loro. C'è un matrioso che ad un certo punto, il matrioso della dragheta, che a Reggio Emilia ad un certo punto caccia via cinque camorristi napoletani venuti a pretendere l'escursione di un credito e li manda via dicendo cinque siete venuti, cinquanta ne ammazzo di voi, lui da solo, e dice voi vi attentate a venire a casa nostra, volete venire a prendere i soldi a casa mia? Dice ma lo sapete chi siamo noi e di chi è questo territorio? Lui siamo l'andrangheta, cioè lui difende casa sua che è Reggio Emilia dicendo voi camorristi qua non ci venite, dicendo questa è terra mia della dragheta. Bene, dovremmo avere il doppio riscatto d'orgoglio di noi, neanche tu vuoi venire, questa è casa nostra, di Reggio Emilia l'abbiamo costruita e ci abbiamo visto con noi e i nostri antenati. Pepino Impastato è stato ucciso perché ha avuto il coraggio di dare incontro alla mafia che aveva in famiglia, suo padre era un mafioso del clan di Cano Badalamenti e lo ha fatto usando l'arma dell'ironia e se c'è una cosa che non sopportano i mafiosi è l'ironia, è prendermi in giro, è ridere di loro, è un concetto che ritorna, il tuo ha detto il nome della rosa, la stessa cosa della chiesa chiusa e oscurantista di un tempo che non sopportava il riso, non sopportava e così avviene anche per le mafie. Una frase molto bella di Pepino Impastato è se si insegnasse la bellezza alla gente la si fornirebbe in arma contro la rassegnazione, contro la paura e contro la umiltà, cioè diceva insegniamo le cose belle alla gente, dobbiamo il dovere di farlo e in questo fa eco a Polo Borsellino che diceva questa terra diventerà bellissima, lo diceva quando sapeva di essere un morto vivente. Vi voglio far vedere la foto della madre di Pepino Felicia che abbraccia la foto di suo figlio, quella donna straordinaria, ha avuto un coraggio incredibile e che ha sempre aiutato ed è stata vicina a suo figlio, non nascondeva in casa, non nascondeva fuori da casa perché anche i parenti se gli arrivavano vicino non è che lo potessero trattare molto bene perché erano mafiosi. E questo il signor Tano Badalamenti che Pepino appunto con l'arma dell'ennonia chiamava Tano Seduto e chiamava il suo paese non Cinisi ma la chiamava mafiopoli. Ecco, da giornalisti così noi dobbiamo prendere l'esempio e ricordarci sempre che questa è andata la vita per raccontare alla gente e per impedire che le cose andassero avanti, come andavano prima. Io quando parlo, vado molto nelle scuole, quando parlo con i ragazzi, racconto la mafia e dico guardate tutte le materie che voi fate hanno a che fare con la dramma, possiamo fare da un punto di vista matematico, dal punto di vista dell'economia, della geografia, della storia, della psicologia, della letteratura, quello che volete. La mafia nello spazio, la mafia nel tempo sono importanti. Nello spazio parliamo un attimino di drangheta perché per capire quello è successo qui dobbiamo capire cos'è la drangheta, non è semplicemente, la parola mafia non ci dice nulla di cos'è. Allora quando parlo con i ragazzi vado velocissimo, uso delle slide per dire, voi immaginatevi che nel nostro sistema solare dove c'è quella fascia di asteroidi che è dopo Marte, la Terra è quella circondata, immaginatevi che da quella fascia di asteroidi succede, una volta di tanto succede, partono delle meteoriti, arrivino sulla Terra e chiamiamole drangheta queste meteoriti, dove arrivano sulla Terra, dove sono arrivate le meteorite della drangheta e che danni fanno, dove sono cadute. Allora il danno presunto che fanno le meteorite della drangheta è quantificato in circa 100 miliardi di euro all'anno e per dire dove sono cadute a livello mondiale, guardiamo un po' questa cartina e vedete che sono semplicemente cadute oggi dappertutto. La drangheta che 20, 30, 40 anni fa era una mafia di secondo livello, addirittura nelle prime relazioni della direzione distrittuale e delle direzioni investigativa antimafia, prima si parlava della mafia siciliana, di Cosa Nostra, poi della Camorra, poi c'erano le altre mafie, c'era in mezzo la drangheta. Oggi se leggete l'ultima relazione della direzione investigativa antimafia troverete le prime 70 facce dedicate all'andrangheta, perché l'andrangheta è questo, una holding internazionale che ha basi assolutamente stabili, facciamo prendere per un attimo l'Europa, in Russia, in America, in Canada, in Messico, in tutto il Sud America, ma non c'è un paese del Sud America dove non si sia l'andrangheta che un tempo andava là a comprare la droga, oggi si è comprati i terreni dove coltiva le piante della droga, si è comprato le navi e le flotte con cui fa il trasferimento delle droghe, si è comprato i porti di Tau, come il foro di Gioia Tau, che era completamente in mano l'andrangheta, prima dell'intervento delle forze dell'ordine, per lo smistamento. Ma l'andrangheta è in Africa, in molti paesi, dove gestisce le materie prime e senz'altro nel paese più ricco dell'Africa, che è più ricco anche dell'Italia, che è in Sudafrica, e in Asia, in Pakistan, basi stabili in Australia. Se guardiamo l'Europa, dove un danno presunto di 70 miliardi all'anno, troviamo che questi sono i paesi a fortissimo insediamento di indragheta, Francia, Svizzera, Italia e Germania. La costa che operava Reggio Liga a basi stabili in Germania. Il signor Nicolino Grandarachi, che oggi vive nel carcere di opera a Milano, 41 bis regime di massima sicurezza, che era domiciliato a Cutro, in calaveri, portato a scarazze, ma la residenza ce l'ha a Duisburg, ad Augsburg, scusate, un paesino della Germania, dove aveva anche una pizzeria che gestiva. Ma la presenza dell'andrangheta ormai è rilevata l'ultimo anno anche in Spagna, a Paesi Bassi, negli Uniti, Amato, Romania, Bulgaria, Polonia, Croazia e Almaniani. Se veniamo in Italia, è semplice, l'andrangheta oggi opera in tutte le regioni. Un anno fa facevo vedere queste cartine con una regione 2 dove non c'era, l'Umbria e la Sardegna. Nell'ultimo anno dell'operazione di polizia hanno trovato attività dell'andrangheta anche in quelle. Queste sono le regioni a più alta penetrazione dell'andrangheta, più forte, Calabria naturalmente perché è la regione d'origine, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Lassia, Lumbria e Veneto. Non vi sfugge che sono le regioni più ricche d'Italia. Vedremo che la cosca Grande Aracri, quella che da futuro si è insediata da Reggio Emilia, è oggi una cosca fondamentale dal punto di vista dell'agricchista perché è la cosca che più si è espansa nelle tre regioni più ricche d'Italia, che sono Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, dove si produce il 45% del prodotto interno ruolo del nostro paese. Quindi essere forti in queste tre regioni non è come essere forti in Amorzio in Molise o in Umbria. Andiamo avanti, vediamo sempre più nel dettaglio, guardiamo l'Emilia Romagna, qui il fatturato cominciamo ad avere delle stime abbastanza certe di 3 miliardi di euro all'anno. Vi vedete conto di che poltica stiamo parlando? Vedete assieme tutte le amministrazioni pubbliche del nostro paese, della nostra regione, col cavolo che ci arriviamo a dei livelli di fatturato così. Quindi quanto realizzano il prodotto? Sono naturalmente in tutte le province, le cosche di Indraghi, la Della Emilia Romagna e questi sono i principali rami di attività nella quale operano, dalla droga, le istruzioni, usure, i futuro crediti, costruzione edilizia, il gioco d'assalto, l'obbligamento, gestione di barri e solanti hotel, una pratica che sta diventando molto diffusa e molto alarmante, ce lo dicono in Calabinieri, la Guardia di Finanza, in particolare sulla riviera romagnola dove comprano le attività, per cui quando facciamo i lungomai, i linei non sappiamo più di chi sono gli hotel che ci sono di fianco, attività finanziarie, appalti, evasione fiscale, fordica rosello, armi illecite, fordica rosello e poi magari dell'estivo, armi illecite, voto di scambio, trasporti, smaltimento, rifiuti immobiliari. In queste regioni operano tante coste, ma la più importante è quella che opera da noi, la costa Grande Arachico numero uno, che vedete, è operativa a Piacenza, è operativa a Parma, operativa a Reggio, a Modena e poi è operativa anche nella provincia di Rimini. Poi ci sono altre, vado veloce perché altrimenti non finiremo più, tantissime altre famiglie, per l'autore di farla manicola, fra la manicola sono a Parma, anche, in particolare vi segnalo i Fenia, Rocco Fenia era considerato un boss, è considerato un boss, che era il re delle slot, del gioco d'azzardo, che era in mano completamente alla dracca, quindi da noi si è andata a giocare e ci ha fatto una cosa che non va bene, alle slot machine, alle tabaccherie, perché si dice poco, ma si dice ancora meno perché loro falsificavano le slot machine perché i vantaggi si li portava a casa. Lui oggi si è preso 26 anni, ha minacciato, lui ha minacciato un soldista di moda, la tizia di morte, è diventato un collaboratore di giustizia, sta cominciando a raccontare delle cose e ha cercato di far affari anche con la costa Grande Arachico, in particolare con i nuovi di Reggio Emilia. In Emilia Romagna però non ci vogliamo far mancare neppure la Camorra, con delle famiglie forti dei clan Napoletali e Campania, di Giavone, di Zagaria, di Milioni, che vedete sono a Modena, Reggio Emilia e più gli anni in giù più sono forti e radicati, Modena, Bologna, Rimini, Fornice Sena, Ravenna e Ferrara, ma ci sono ancora le attività anche controllate dalla mafia siciliana, in particolare nel settore delle droghe, della prostituzione e del gioco d'azzardo, e stiamo parlando di famiglie potenti che vengono da Masala del Vardo, da Trapari e da Castelde Trang. Se veniamo a Reggio Emilia in provincia per vedere com'è risolcata la tranghera, facciamo una cosa semplicissima, prendiamo gli imputati del processo Emilia e vediamo dove stavano di casa e ne troviamo, vedete, uno nei comuni di Sant'Iario, Castamomonte, Rubiera, Renzio, Loquastale, Albinare, Castatico, San Polo, due imputati nei comuni di Boretto, Cominio, Pescello e Correggio, tre imputati erano a Cabriago, quattro a Scandiano, cinque a Vigiani a Qualtieri, nove a Cadiposto sopra, quindici a Montecchi e 43 risiedevano nel comune di Reggio Emilia. Poi la residenza vale fino a mezzo giorno, le attività le facevano dappertutto. Vi segnalo una cosa, in questa fascia, nella fascia del fiume, c'è stato il primo insediamento forte, perché le prime attività erano un'attività che avevano a che fare con il mercato dell'inizia e quindi lì si svolgevano di quale di là è da rispondere il fiume nel mandorano anche di più le attività illecite, scavazioni abusive e il mercato della chiaia e della sabbia per le costruzioni completamente in nero. Uno degli indagatisti più importanti di questo processo, signor Giuseppe Giglio, dicono ai suoi amici, i sodali, si dice che è arrivata in Reggio Emilia con una topolina tornata su un misurgo con una Ferrari, perché lui arrivava con un camion, andava a caricare comprando chiaia in nero dagli imprenditori nostrani, tocque, nostri, emiliani e mantovani, chiaia e sabbia riempiva un camion da 60 tonnellate, il sabato e la domenica andava nei contieri delle grandi imprese, delle cooperative e lo vendeva in nero e non c'era nessuno che rifiutava la sua chiaia, ci guadagnava lui, ci guadagnavano loro e chi perdeva? Perdevano i lavoratori perché non c'era lavoro per loro, perdevano le imprese sani che pagano le tasse e vanno col mercato e non possono competere contro chi va assieme alla normalità. In questa zona delle ceramiche, vi ho fatto una piccolissima slide per dire, qui a Rotcheglia e a Castellavano non risultano indagati, ci sono però molti affari e soprattutto precedenti ad Emilia che hanno a che fare con la ricchezza e il tessuto economico imprenditoriale tipico della zona delle ceramiche. Ci sono imprenditori in questa zona delle ceramiche che hanno perso l'impresa perché si sono rivolti alla drangheta per bisogno di soldi, per un prestito, perché hanno un gioco d'azzardo, perché devo pagare un amante in nero, perché voglio far lavorare i lavoratori la domenica e non voglio che risulti in busta paga per non pagare i contributi e allora vi faccio prestare dei soldi, pensando di poter vivere indietro anche ad un tasso usurario, tanti soldi c'è io e non sapendo che così si finisce nelle mani della drangheta che poi l'ultimo anno finisce. Dice il procuratore Mescolini, una delle frasi più importanti nella sua requisitoria al processo, voi non troverete mai, ci sono più di 200 capi di imputazione in questo processo, voi non troverete mai un reato in cui è stato un dranghetista a fare il primo passo verso l'imprenditore, è sempre stato il contrario, è l'imprenditore che va a chiedere il servizio alla drangheta perché la drangheta fornisce dei servizi di falsa fatturazione, di caporalato, di prestito di lavoro a bassissimo costo migliore di chiunque altro, ma la domanda c'era già, era preesistente, poi questi imprenditori finiscono dopo per essere vittime perché vengono risucchiati, esportati e vi dicevo c'è chi ha perso le imprese in queste zone e non lo sappiamo perché quando la mafia ti porta di ripresa non è che tu lo vai a denunciare normalmente ai carabinieri perché ti minaccia anche se ci va, ti ammazza e questo l'abbiamo visto alla fine con le testimonianze sofferte e imparassanti di gente che era evidente che aveva conto perché era stata minacciata. Qui sono stati fatti degli affari, si parla di un affare di piastrello di Fabrizio Boracini che non è un mio parente, aveva una filiale della sua impresa Stargress a Sassuolo ma lui è uno da cui hanno estorto dei soldi. C'è un fatto molto importante, molto inquietante che è relativo ad un'operazione precedente da Emilia ed è poi Breck che è sempre condotta alla direzione antimafia e dal procuratore Mescolini che è un santo perché è quello che ha condotto tutte le indagini di Romagna della 2000 e poi è sperato un testo alla volta questa grande mostruosa macchina che vuota attorno alla drancheta. Ebbene c'era un signore che di Sassuolo, Paolo Pelagio, che aveva cominciato a fare le prime truffe extra con i paesi della comunità europea e che faceva estorsioni e ad un certo punto gli occhi su di lui ce lo mette dall'Agenzia delle Tratte di Sassuolo e non fanno tanto, mettono una bomba dall'Agenzia delle Tratte che è esplosa ed è andata bene perché è esplosa nel momento in cui l'Agenzia era chiusa, se no uccideva delle persone. Noi i rischi di stragi tra Reggio e Libia, morte del bar, non vi assicuro che ne abbiamo corsi tanti. Potrei fargli l'elenco. Prima si citava l'attentato al bar Pendorino nel 1999, sono rimaste ferite 13 persone, tre gravi non potrebbero essere una strage di missioni. Io ho buttato apposto una bomba per uccidere. Tra Castella Rana e Casagrande il signor Rocco Ferbieri di cui vi parlavo, da collaboratori di giustizia, viene in aula e racconta una storia impietante che però non c'entra niente con l'Agenzia e è rimasta lì sospesa nel vuoto. Però io l'ho scritta nel libro perché dice che ad un certo punto lui aveva un problema con un signore che abitava la salvaterra e dice che ce l'aveva come lui aveva ammazzare, questo signore era un mafioso a sua volta e quindi che apparteneva ad un'altra consorteria. Ne parla con uno dei capi riconosciuti dell'andranca di Reggio e Libia, Michele Bolognino, che dice ci penso io e Fenia dice in aula tranquillamente e poi quel signore è morto. Come sia morte perché non lo sappiamo perché non è un caso che è rientrato nel processo Emilia. Però Rocco Fenia racconta che tra Casagrande, Castella Rana e Salvatore a Ridosso del Secchio operava un gruppo dranghetista con affari di usura e sistemi per il gioco d'azzardo a guidarlo e alla famiglia Scarfone decimata da storie oscure. Nel marzo del 2017 un'altra operazione di polizia, il Brangames, ha portato all'arresto di un timpani di Casagrande collegato agli Scarfone, poi all'arresto di un albarese, di un greco, di un cinese e di orecciano che era un'espressione, un'alleanza tra la cosca grande A e le altre due grandi cosce del sud. Ecco queste cose, e io ne so tanto come voi adesso che ve l'ho letta perché non sono state approfondite, di queste diramazioni che sarebbe interessante e curioso andare ad approfondire se sono migliaia al processo. E sempre nella zona di Castella Rana avvengono due estorsioni ai danni di due piccoli o medi imprenditori, uno è Luigi Caccia e sono in tanti a portare via dei soldi a questo imprenditore, in fasi diverse. Questo ci dice che quando loro ti prendono primi 1000 euro, non è che, chiuso il punto, si accontenta. Da quello lì si possono portare via, vengono tutti, è in fila e usano lo stesso metodo e lo stesso sistema. Il signor Enzo Mecchiore, tra i quali vanno due dei nomi eccellenti, Antonio Silipo e Gianluigi Sarpone ha destorce. Detto questo vi voglio far vedere però le cartine delle presenze delle famiglie di Andrangheta in Calabria, per capire bene la dimensione del fenomeno. Questa è la sola provincia di Medio Calabria dove c'è talmente tanta Andrangheta che la TDA, la Direzione Distrittuale Antimafia, ha spacchettato la provincia in tre pezzi. C'è il mandamento, la città metropolitana, il cuore delle ciocale a Calabria dove ci sono 21 aggregazioni di famiglie di Andrangheta diverse. Ognuna di queste 21, vedete, ha tanti cognomi, sono tante famiglie unite, ma diciamo è un unico gruppo. Come dire, quando qui negli anni 80 c'erano i grandi Aracri, Dragone, Arena che erano assieme, dopo cui uno ammazzava tutti gli altri, ma lì adesso sono assieme. Ce ne sono 21 di questi raggruppamenti. Sul mandamento terrenico, che è uno storicamente dei più potenti di Andrangheta, dove c'è la Andrangheta dei Condello, la Andrangheta dei traffici internazionali di droga, 42 famiglie, il mandamento Ionico 40 famiglie. Nelle altre province della Calabria non va molto meglio, a Catanzaro 17 famiglie, a Vipovalese 19, a Cosenza 14, a Crotone 14, compresi i nostri signori grandi Aracri. Quindi vedete che questo, tornando alla rappresentazione dell'universo, i grandi Aracri sono solo una piccola stella in un universo, in una galassia di Andrangheta. Complessivamente siamo a 167 famiglie e raggruppamenti di Andrangheta che operano lì, ma da lì si dipannano, come abbiamo visto in tutto il mondo. Per concludere, l'Andrangheta oggi è la più potente mafia in Italia, la più potente in assoluto nel commercio della droga in Europa. Mette assieme la tradizione, i riti arcaici della filiazione con il taglio sul pollice in un luogo sacro. A Reggio Ia ce ne sono due di luoghi sacri dove si poteva consacrare uno all'Andrangheta o fargli passare il livello, perché si parte da Picciotto, Picciotto d'Onore, Sgarrista, Camorista, Trequartista, poi si arriva a prendere il crimine, il crimine internazionale che nella nostra posca ce l'avevano solo in due, anche il salvatore cortese, Nicolino Gradaracchi. Ogni passaggio avviene per meriti, perché se sei ucciso, se sei estorto, soprattutto se uccidi, passi di grado, vai su e avviene in un luogo sacro da persone deputate a tutti fanno questo taglio e ti consacrano nel nome, la leggenda dice, di tre grandi cavalieri, di Nofrio, Mismizio e Miscarro, che avevano tagliato la testa a San Michele d'Arcancio. I due luoghi, le due chiese di consacrazione a Reggio Ia ce l'avevano, una del parmigiano raggiano, come dice Valerio, ma quella anche dell'Andrangheta e una a Prescello, che è il paese originale dell'insediamento della costa di Andraghami in provincia di Reggio Emilia. La stima del fatturato oggi è superiore ai 50 miliardi di euro. Stiamo parlando di un volume di soldi che maggiora tutta la produzione agro-soltecnica italiana, cioè loro realizzano molto di più. Quindi capite che con così tanti soldi non è che si scompare da un giorno all'altro perché un processo ti mette in galera, per fortuna che il processo ti mette in galera, ma è una battaglia continua, la guerra continua, non è finita perché queste hanno disponibilità finanziarie praticamente infinite. Questo è uno schema di uno dei siti più moderni per fare frodi fiscali che usa la granità reggiana in specifico, un'esperta, il signor Paolo Beraci di Sassuolo che vi ho detto e poi il suo discepolo che diventa come Giotto Cimamore, diventa più bravo del maestro, che inventa di cotte di crudia, che sono transazioni in giro per l'Europa, sfruttando il fatto che tra l'Italia e la Francia, tra l'Italia e la Germania non si paga l'IVA. E allora io compro un milione di chiavette in Francia, le paga un euro di una, paga un milione, non un milione più IVA, ok? Poi però queste chiavette, questa società che la comprate dalla Francia, le rivende a un'italiana e incassa un milione più IVA. Poi metteteci in mezzo 50 società, queste chiavette faranno giù di 50 società. L'ultima alla fine rivende le stesse chiavette a quella francese che le ha vendute per primo. Le rivende e incassa solo un milione, ma ha pagato un milione più IVA. Quindi quelle di mezzo non servono a niente, servono solo per confondere le idee, carabinieri, guardie finanze e come stiamo. La prima, se incassa davvero, prende più soldi di quelle che spende, ma ha un debito verso lo Stato, perché l'IVA non è che la posso tenere, la devo versare. L'ultima, spende più di quanto incassa, ma ha un credito d'IVA, perché l'ha pagata e non l'ha incassata. La società buona è l'ultima che ha un credito d'IVA, perché i soldi non girano, non girano neanche le chiavette, non gira nulla. Tutte queste società, comprese quelle in Francia, sono della drangheta, che paga a fiori commercialisti nostri per fare i cunti perfettamente, per avere una società che ha il credito d'IVA, un milione, due, tre. E questa società metto sul mercato, la vendo, la offro, una società di qua che sta andando bene, che deve versare perché ha avuto degli utili, deve versare l'IVA, ti do un ramo di attività che devi incassare l'IVA, compensi e quei soldi diventano cash e diventi in tasca. E questa è una transazione, ma delle tante, in mezzo a cui c'è scritto Telecom, e non più tardi, mi rilauro, ho avuto modo di parlare con uno dei procuratori del processo Emilia, e gli ho chiesto, ma, e lui dice, questa qui l'ho trovata io, questo, che era un pc, un fogliettino, degli archivi, degli armari di Giuseppe Ciglio, e gli ho detto, ma questa Telecom è un nome, dice, no no, questa Telecom è la Telecom, che faceva affari con le false società dell'andrangheta, a detta della Telecom, senza sapere che era l'andrangheta, perché loro fanno affari con tutti, basta parlare, non stanno in tanto ad andare per nessuno. Detto questo, vorrei farvi un breve racconto del cos'è successo qua da noi nel tempo, perché questo è un elemento importante, perché abbiamo la percezione che siamo un fenomeno abbastanza recente, quello della lingua della drammheta, da noi, ma Emilia ci ha aiutato a capire quanto fosse, quanto sia profondo nel tempo il radicamento. Guardate, c'è un importante procuratore che ha combattuto la Camorra, che è intanto un procuratore a Parma, che di recenti ha detto che l'andrangheta è relativamente giovane, perché non la conosce, mentre conosce molto bene la Camorra. Questa percezione è diffusa, che l'andrangheta si ha qui da poco, da pochi anni, dal terzo millennio, ma ormai andiamo indietro e arriviamo al 1958, quindi stiamo parlando di 70 anni. Nel 1958 arriva qui il primo camorresta, il primo boss di Cosa Nostra, da Sicilia, mandato a confino, ed è proprio Pocchio Di Mancio, ed è un personaggio più importante, il boss, torniamo all'inizio, di Cinesi, dove è stato ucciso Peppino in pastato. Dopo di lui arriva Antonio Dragone a Salvarano di Reggio Emilia e poi arrivano signori come Tanova dalla Medica, Sassuolo di Modena, Francesco Sandro Casciavone, uno dei boss della Camorra Napoletana a Modena, Alfredo Ionetti, un altro andranghetista del Franco Mondello, i più cattivi, le bestie più bestie, che va a Cesena e vengono mandati a confino qui da noi, a San Giovanni Percecento a Pubblico, anche Totò e Giacomo Arino, suo cugino. Poi Totò Riina qui non ci viene perché anziché a Miracofino si mette l'attivante, ma l'altro ci viene. E questi signori sono venuti qui assieme tra il 1958 e il 1995 un numero di confinati che è superiore ai 3.500. Il primo dato ufficiale ce lo fornisce Cicconti in un libro del 2035, ma fino al 1998, poi è stata fatta la conta complessiva, il 1998 ce lo dice Cicconti, i dati si chiamavano molto prima, la conta complessiva viene fatta dal dossier di mafie senza confini della regione Emilia Romagna che ci dice che sono stati 3.562, quindi praticamente una colonizzazione di confinati della Camorra, della Draghi e della mafia siciliana mandati via da qua, via dalla giù perché non facessero danni là. L'obiettivo intendo era buono, però non abbiamo calcolato i danni che potevano fare con noi. Quindi negli anni 60 c'è la migrazione dei confinati che si affianca ad una migrazione vera in forza lavoro di muratori, di carpentieri, di intonacatori, perché parte il sogno emiliano dell'aumentare la popolazione, dell'allargare le nostre città. Reggio Emilia doveva passare da 120.000 a 250.000 abitanti, Parma voleva arrivare a 400, perché i parmigiani vogliono sempre essere primi davanti a tutti. E questi erano bravi muratori, allora tutti su con le famiglie perché là c'è lavoro mentre giù non c'era. Ed è chiaro che questo fenomeno migratorio si porta dietro anche l'immigrazione di personaggi scomodi. Negli anni 70 si pratica già a Reggio Emilia l'usura, si pratica la droga. Nel 1979 c'è il robo del Pic Pussi che trove due personaggi importantissimi perché il processo che prende avvio da quel fatto lì del 1989 è quello che torna in udienza domani in corte d'assise a Reggio Emilia per gli omicidi del 1992. Perché in quel robo, che ci sono due esponenti di spicco della famiglia Vasapollo, legata in Dragone, che allora sono già presenti di Reggio, che vanno in storcia, cittorale del Pic Pussi che uno muore bruciato mentre da fuoco è Giuseppe Vasapollo, l'altro Paolino la porteria, scappe e lascia via bruciare. E la vendetta, siccome in Dragheta la vendetta diceva lei non va mai in prescrizione, non c'è un periodo in cui un giro, no, se tu mi hai ammazzato prima o poi qualcuno ti ammazzano più. Paolino la porteria, che è un uomo che c'ha un pa' Dragone, viene ucciso nell'agosto del 1992 a Cutro dai Vasapollo e siccome uccidono Paolino la porteria nel 1992, dopo due mesi di c'ha un pa' Dragone e Arena si uniscono e ammazzano Nicola Vasapollo alla periferia di Renzo e Giuseppe Lucello, Giuseppe Guastana e sono i domicidi per i quali c'è il processo in corso adesso. Ma negli anni 70, non ho ancora fatto da dire per metterla sulla slide, un giornalista che era un bravissimo giornalista dell'Unità, Antonio Zambonelli che è oggi il direttore del notiziario dell'Anti, direi c'è lì, è uno storico, e scriveva e parlava della mafia nel 5 novembre del 1970 su una rivista edita dal PC di allora che si chiamava Reggio XV, parlava della presenza della mafia nelle imprese, nella gestione del caporalato dei lavoratori, degli operai. Fa due puntate, una al 5 novembre e una al 29 novembre, tra una puntata e l'altra gli arriva questo foglietto che non è scritto male, non è scritto a macchina, è scritto sapete con, io lo usavo a scuola, quella farina di pasta dove vai dentro e devi, c'è da S, da A, non muore, non muore, non muore, non muore, perché non si riposca la calligrafia, però vi è sicuro che è scritto esattamente con lo stesso stile con cui gli ultimi pizzini degli sparatori di due mesi fa contro le pizzerie per avere il pizzo, esattamente, e gli dicono, lui si chiamava con un solitonimo questo tipo di Mimo, Mimo se continui a scrivere tutte quelle fandonie sui cutresi sarai un uomo morto, quindi era fandonia direi no? Se vuoi un consiglio lasci a Reggio entro giovedì senza scrivere altro su Reggio XV che è questa rivista che vi portavo la notizia, se hai capito sparisci o ti troveranno sforacchiato con questo e qui c'è il disegno di una pistola che sta attorno, la mafia di Cutro crepa Vigliacopo, questo qui era un pizzo che arrivava a un giornalista nel 1970, quindi 50 anni fa, andiamo avanti, negli anni 80, dice Antonio Valerio, a Reggio Emilia, provincia di Reggio Emilia, si riunisce il C7 o C8 dell'Andrangheta, signor procuratore, dice tutti i capi sono venuti su perché questa è la nostra terra e un accordo per mettere pace tra le famiglie di Nerote e l'Andrangheta con il collineo Grandarach che già emergeva, si svolge a Reggio Emilia. Nel 1980 sotto Dragone dice l'informativo del questore a Monte Cavolo, era il padrone del barco operativo di Monte Cavolo, c'era una cabina telefonica che nessuno poteva usare per dover restare a sua disposizione, lui usava per telefonare il suo appunto e ogni tanto tirava fuori il portafoglio e regalava un accordo del 100.000 lire, allora c'erano ancora del lire, e ai suoi uomini di scorta che erano sempre attorno e che cambiavano ogni due giorni, ogni due giorni, e anche ai cittadini eleggiani a sua discrezione per essere generosi. Nel 1990 è il decennio del sangue, dice Antonio Valerio, abbiamo marchiato a fuoco col sangue questo terreno, questa provincia, e poi abbiamo fatto scendere il silenzio, cosa in cui noi mapposti siamo molto bravi. Marchiare a fuoco col sangue vuol dire che c'erano troppe e troppe famiglie che operavano qui e un genio del crimine, come Nicolino Grande Aracca, appunto con i suoi uomini qui, fa alleasse con uno per far fuori l'altro e va avanti così fino a che li fa fuori tutti. L'ultimo lo fa fuori, giù a Cutro nel 2004, ed è Antonio Dragone, ma qui a Reggio Emilia, nel 1991 poteva esserci una strage crescendo perché gli omicidi che commettono nel 1992 si trovano in Romagna, in comando, vengono qui con le auto in pieno giorno, arrivano davanti alla casa di Giuseppe Luggero per uccidere i Luggero che intanto si stavano armando per uccidere il Dragone, cerchiamo, ecco le armi personaggi di difesa, però ci sono tanti bambini e Antonio Valeglio, il collaboratore, dice quale più bella occasione, li ammazziamo anche i piccoli, così non continuano, ma qualcuno lì non si attendeva per a fuori le armi e allora torna lì indietro a Nido di Salmi, ritornano l'anno dopo vestiti da carabinieri, su un'auto di finti carabinieri, arrivano alle tre di notte davanti alla casa di Luggero, a cento metri dalla caserba dei carabinieri con un armi giante finto, lo chiamano fuori e ammazzano e un mese prima avevano ammazzato Vasa Pollo, la periferia di Reggio. Ma oltre a questi due muoiono, vi ho detto la rotteria a Furtro, muoiono dei personaggi qui a Reggio Emilia e di là di Adana che neanche conosciamo bene, muore Scida perché è un uomo dei grandi aracni e Paolo Bellini, il killer del Vasa Pollo, viene mandato in giro, più ne trovi più ammazzano, ammazzano Scida, ammazzano il signor Pucca che è uno che passava lì in fianco mentre stava lo studente del signor Scida, ammassano due legiani, Iori e Vestani, uno buttato nel po', uno trovato sulle colline di Vestano adagiato ad una parete di una montagnola, ammassano Abrano, Truzzi e non si sa perché, tanto che Antonio Valerio dice c'è una tesi, ve la racconto perché è piuttosto impietante, di una trattativa stato drangheta, non stato mafia quella giù in Sicilia, cioè loro hanno in galera i capi Cosca, Raffaele Dragone, Antonio Dragone, Bimbo Lucente prima che si suicidasse, persone che avevano partecipato agli ovicidi di Brescello, questi c'è il rischio che qualcuno di loro racconti chi c'era dietro e dietro c'erano tutti i capi che oggi sono a processo e allora dice Valerio facciamo un po' di stragi a Reggio Emilia, ammassiamo della gente, vi diamo a voi quali sia gli autori di queste stragi e in cambio vi farei uscire dalla galera anticipatamente i nostri uomini, non si sa se fu fatta, non si sta sando così, di certo gli uomini i Dragone usciarono anticipatamente dalla galera ed è stata la loro sfortuna perché Nicolio Grandaracchi li ha aspettati fuori e li ha ammassati tutti, uno alla volta. E quindi alla fine degli anni 90 i Grandaracchi cominciano a controllare questo territorio e come dice Valerio da quel momento scende in silenzio, non si spara più, si fanno affari e basta, e si comincia a fare affari. Ma negli anni 2000, se vogliamo tornare al tema, noi pensavamo agli anticorpi, ma noi non sapevamo, ve lo dice un giornalista che lavorava qui, non è che aveva una colpa ad altri, se è una colpa di tutti noi complessivamente, che non abbiamo dedicato sufficiente tempo al tensedone, anche perché facciamo delle altre cose a questi tempi, ma solo le inchieste che ci sono state, che hanno coinvolto in Draghi Vista e nella nostra provincia, il numero delle inchieste con decine se non centinaia di persone coinvolte ci dice quanto non abbiamo saputo, Scacco Matto, Grande Drago, Elipiola, Tirti Money, Kipi, Pandora, Point Break, Black Monkey, Octopus, Chiterio, Becci, Aemidia, Emilia Viscu, C92, sono tutte inchieste che hanno a che fare con personaggi che vivono nella nostra provincia. Chiudo con la storia, uso ancora tre slide per dirvi, farò un quadro, un punto fermo sul processo. Il processo finisce con una sentenza che va ingiudicata in cassazione, definitiva e non si può più modificare il 25 ottobre a Roma, che riguarda le persone coinvolte nel rito abbreviato di Bologna. È lo stesso processo, ma sono tutti gli imputati che hanno scelto un rito più veloce, senza portare testimonia e difesa, ma se vengo condannato non ci conto di un terzo della vera. Quasi tutti i capi mafia, Emiliani e Renciani in particolare, scelgono di Bologna. Questo è più veloce, siamo già alla fine. Il grosso degli imputati, 220, i tre quarti degli imputati, scelgono invece il rito ordinario di Reggio Ligna perché vogliono difendersi, ma il grosso di quelli che vogliono difendersi a Reggio Ligna vengono comunque condannati a Reggio Ligna. Ma siamo solamente al primo grado, sentenza del 31 ottobre scorso, in ottimo si ricomincia con la pelle. Complessivamente a Reggio Ligna sono affidati 898 più 325 anni di carcere, la sola dei due perché a Reggio Ligna, mentre si svolgeva il processo, gli inquirenti hanno scoperto che i mafiosi continuavano a fare affari e minacce di drammica, sia dentro al carcere quelli che erano in carcere, sia fuori quelli che erano fuori. Quindi di nuovo scelta, se fare il rito ordinario abbreviato per quei reati, allora sono giudicati due processi in una Reggio Ligna. I 298 anni sono quelli dati a Bologna e passati in giudicato. Complessivamente siamo a oltre un millennio e mezzo, 1.500 anni di carcere. Ora, 1.500 anni di carcere sono vita pochia e dicono che complessivamente 174 condanne tra Reggio e Bologna, 2.43 assoluzioni. In questi 174 una cinquantina sono mafiosi, ma gli altri 120 sono gente che non ha niente a che fare con la mafia e che con la mafia ci ha fatto affare, non ha niente a che fare nel senso che non nasce nella mafia, non ha l'etichetta di mafioso, non è condannato per i 416 visi, reato di appartenenza all'associazione mafiosa, ma hanno commesso dei reati assiedi dalla mafia, per le persone che vivono nei nostri territori. Vi faccio vedere l'ultima slide, poi mi fermo se ne lo diamo un po'. La sentenza però non dice solamente quella cosa che importa, la sentenza dice altre tre cose, la sentenza di Reggio Ligna dice altre tre cose importantissime. La prima cosa è questa, i beni confiscati, che sono tutto ciò che la mafia in questi, diciamo a questo punto 70 anni, si è portata via, il nostro, si è portata via illegalmente, ci ha sdorpato, ci ha rubato queste cose. Complessivamente 63 società, c'era molto di più, ma molte sono società vuote, inesistenti, a un certo punto vanno a Boretto e a Gualtieri a cercare delle società di collettorio di Tarosello, dovevano essere piene di merce, stando alle carte e ai volumi. Trovano un cartonone, questa stanza vuota, con un signore in fondo in un angolo, vecchietto, mi chiedono scusi lei, chi è? Amministratore delegato sono. Era un vecchio, in famiglia, non sa neanche cosa vuol dire fare amministratore delegato, ma era lui che aveva la firma. Queste sono quelle buone. Immobili, 214 per 12.000 metri quadri complessivi, case, ville, appartamenti, garage, auto e moto 152 per circa 2 milioni di euro. Il signore, il chiede di Bolognino, racconti in aula che dopo il 2003, quando esce di galera, dice che mi sono ravveduto, prima sì ho collaborato con la madre, giuro che da dopo non ho fatto niente, tanto che vivevo a Montecchio in un appartamento di 35 metri quadri, c'è un giudice, e nessuno più mi voleva perché se hai l'etichetta del giustato in galera, nessuno ti la dà lavorare. Nello stesso anno viaggiava con una Lamborghini Gallardo che costa sui 300-400 mila euro, quindi non so, ma lui è uno di quelli che si trattavano peggio, è peggio Giuseppe Giglio, collaboratore di giustizia, persona importante, nel 2012 dichiara zero al fisco assieme a sua moglie, dichiarazione dei redditi, nulla tenente e nulla facente per un anno, quindi non hanno avuto, non hanno incassato un euro e non hanno quindi versato un euro. Nello stesso anno la Guardia di Finanza trova che Giglio è reale proprietario di 263 società, di 60-70 immobili e di un certo numero di conti correnti manerali, guarda di un numero grande, uno che stabilita dei conti correnti, a casa mia se ne hai due stagione, bene insomma, lui che aveva 1.008 aperti in 56 diversi istituti di credito per Giglio, cioè non c'era una filiale leggerita dove non ci fosse un conto di Giuseppe Giglio e dichiarava zero all'erario, cioè questi si prosciugavano i nostri soldi e non gli davano niente dietro. La cosa più impressionante sono i terreni, perché qui non sono i mafiosi, l'uomo che si è conquistato più terreni, che si è comprato più terreni, grazie ai proventi illeciti delle sue attività, è il signor Augusto Diachini, che è un imprenditore stimato di Modena, San Felice sul Panaro, che ha fatto un sacco di soldi con la ricostruzione del poster moto. Peccato che li faceva un genio di funzionari, di eti pubblici, e peccato che li faceva utilizzando una roba prestata dalla mafia. Questo dice la sentenza di primo grado che lo condanna, eh? Ecco, il signor Alice ha comprato un sacco di terreni, in giro per modena, manto, la legge lì. Complessivamente sono stati sequestrati 63 ettari di terra, che è equivalente, l'anello giallo è la circomolazione di reggio, l'anello nero è il terreno. Quindi, anche fisicamente ci hanno portato via la terra. Tutti questi beni tornano alle nostre disponibilità. E qui ai sindaci chiediamo coraggio, perché non è semplice, ci vuole coraggio, idee chiare, cosa riusciamo a fare, a cosa li destiniamo, ma andiamocene anche a prendere, e non è semplice, andarsi a riprendere la casa di Francesco Grandalacchio a Brescello, dove lui è stato sfrattato, perché la casa adesso è quello definitivamente nelle mani pubbliche, vuol dire andare a dire, vattene via, vuol dire andare a dire, un mafioso vattene via, e non è chi ci va per primo. Guardate, sono temi veri, seri. Quindi, sono questi anche i temi di cui andiamo a discutere, perché è doveroso che questi beni tornano a disposizione nelle comunità locali. Paolo, su questo però c'è, così per indicare, c'è anche una novità per la ultima settimana, nel senso che anche la Presidio della Provincia, insieme al Comune Capoluogo, insieme a Laveretti, che abbiamo visto anche nei prossimi anni, poco fa, abbiamo firmato proprio il protocollo del Tribunale di Regione Emilia, sia proprio per l'assegnazione dei beni confiscati per restituire la pubblica utilità, direi tre settimane fa, e va dove muore. Questo è quello che si è un passo che sottolinea ciò che giustamente... ...il corso altissimo... Adesso però va dato che anche a quel protocollo, quindi colpo in realtà l'altro stile, però credo che sia significativo, infatti riportarlo qua, perché sono tutti quei temi che anche su la stampa, anche a Telereggio, tanto per citare la nuova televisione, insieme a Teletricolore, è stato dato lo spazio relativo, ma invece è di un'importanza oggettiva, anche perché, di davvero, su due parentesi, anche il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, che tu sai essere una delle elementi in prefettura, che guida questo tipo di qualificazione rispetto a riportare i beni confiscati, spesso comincia a essere un elemento che viene oggettivamente, seriamente attenzionato per riportarlo alla quotidianità. A Reggio, uno dei primi fenomeni, è stata una sala scommesse ridonata al pubblico, creando un centro culturale, di fatto. Quindi credo che anche su questo ci siano segnali positivamente positivi che nascono da proprio tempo. Sì, assolutamente, d'accordo. E ho detto che gli amministratori, i sindaci, per dire una figura, ma il coraggio sulle... Cioè, e più si è uniti nel costruire degli fondi di utilizzo. Quei fondi sono stati piedi, eh. Prendere una società, come un miso di fiume di Montecchio, enorme, una struttura, ma è semplice andare a gestire. E lì, chi ci ha provato, ha preso anche delle legnate in passato. Quindi vuol dire tutti assieme, forze dell'ordine, garanzie, ma anche associazioni dei lavoratori, associazioni imprenditoriali, che costruiscono dei progetti che investono su un'idea di recupero di questi vedi. Segnando le altre due cose importanti del processo, che non sono meno significative, una è che ci sono stati, questo l'hanno decisi i giudici, 50 testimoni, ne sono passati circa un miliardo di testimoni, in questi tre, erano un po' meno, ma 50 testimoni sono stati rinviati alla tortura del Stato Lattimafia, o alla tortura ordinaria, che dovrà valutare l'ipotesi di falsa testimonianza. Perché queste persone sono venute, secondo il giudice, a raccontarci le balle, e perché sono venute a raccontare le balle, o perché a fare il corso, o perché minacciate. Questo riconosce un altro tema, che è la lotta che gli avvocati difensori e i mafiosi hanno fatto ai giornalisti in questo processo, hanno tentato di fare il processo a porte chiuse, hanno chiesto di allontanare i giornalisti, è stata fatta l'esposta all'ordine dei giornalisti, partendo dal presupposto agli scordori, i giornalisti raccontavano cose false. Non ha mai detto Paolo Bonaccini ha scritto quella cosa falsa quel giorno, oppure iniziamo su Resina, sulla Gazzetta, quel giorno. No, i giornalisti raccontano cose false. Sono uno strumento del pubblico ministero per condizionare la giuria. E la porte, reggettando questa richiesta, addirittura sono arrivati a chiedere che l'apertura di udienza fosse prima leggiamo i giornali e commentiamo gli articoli e poi dopo andiamo avanti con il processo. è una follia. Ma la sentenza della Corte e dei giudici non ha usato la lettera sarà importante perché per tre motivi sancisce che l'articolo 21 del diritto di parola, la libertà di espressione, il diritto ad essere informati, una pietra miliare della Costituzione usa queste parole, dice che il dibattimento pubblico con giornalisti e più pubblico è, meglio è, è una garanzia anche e soprattutto per gli imputati che sono paesi in cui i processi avvengono a porte chiuse e non si sa cosa succede agli imputati di dentro e poi il terzo motivo dicono i giudici non vi preoccupate i imputati, non ci lasceremo certo a condizionare degli articoli dei giornalisti così come non ci facciamo condizionare dalle false testimonianze di quelli di quelli di minacciati tant'è che ne rimandano 50 per falsa testimonianza falsa testimonianza si rispondono due o cinque anni e ci sono state anche 13 persone rinviate alla direzione di statunità di mafia che dovrà valutare l'ipotesi del reato del 416b cioè 13 persone che secondo i giudici sono minuto di mafia cioè anche loro farebbero parte della nostra otteria quindi si tratta di dei nuovi filoni attorno a questo tema io mi fermerei un attimo qui anche per il numero se ho d'acqua se avete delle domande interventi osservazioni poi come ha detto giustamente il signor la storia è finita e possiamo proprio dire affinché vogliamo io ne ho ancora di cosa da raccontarmi tantissime ma mi serve anche se vi va gli organi prima io ero interessato a questo cioè ha detto prima giustamente che non è la franita che va dagli imprenditori ma sono gli imprenditori che tutte le volte magari in difficoltà vanno a cercare anche a volte magari senza neanche sapere questo però diciamo che questo è il piano inferiore cioè nel senso che un imprenditori in difficoltà è l'andranno in vista operativo diciamo sul campo ma il piano superiore perché voglio dire questi gruppi di lavoro queste imprese devono partecipare a bandi devono parlare con delle persone devono vincere concorsi devono magari hanno siano autorizzati a costruire delle edilizie popolari ok? ecco visto che mi sembra capito che lei è sempre stata in processi diciamo siamo arrivati sul piano politico a diciamo sapere tutto quello che c'era da sapere o la sensazione è che ci siano ancora cose diciamo che lì non ci siamo arrivati ma abbiamo ancora toccato diciamo il punto del live se c'erano trovando due poi così facciamo lo Stato ha capito che il cancro all'inizio di tutto è stato spostare questa gente o testimonio spostare le zone cioè è una cosa che viene fatta ancora questa perché mi sembra che tutto quanto non si inizia risposta far rendere conto a queste persone che se in certe posizioni conoscere il territorio si dava aiutare a nuovi strumenti criminali queste persone sono trasferite come me risultava bene negli anni 70 che ero una sola rispondente allora per gente che veniva dalla Sicilia o la carattere in caccia qua finiti anni a farmi solo le salite no no non in cancere in cancere in cancere in cancere in cancere in Italia ho parlato in persone piede libero no è a me per cui mi ricordo io allora c'era studiato a scuola un professore anche che era abbastanza tale che era un avvocato anche se ci ne aveva in Italia e diceva questi che ci vengono messi nelle nostre carceri si tirano su un istituto a minimazione ah ho capito adesso e io ce la sono ritrovata tante cose che festisco perché abbiamo recuperato tante zone mi si approveggio moderno io ero di moderno vedi però allora tanto il piano politico il piano politico e il piano amministrativo perché adesso non è la politica è il punto peso di mira dai mafiosi ma è il funzionario che lavora in quel posto che può fare quella cosa a fine quello spazio di non muore quella pratica è il dirigente vi faccio un esempio che è agli altri del processo il dirigente del comune di Correggio che può indicarci quale terreno avricolo diventerà modificabile nelle bozze o che speriamo ci possa indicare di che reggiti non si sa chi sia non si sa se sia vera la storia e gli dico Antonio Valera a un certo punto racconta questo pezzo di storia ma è un elemento che è rimasto lì noi immaginiamo che la direzione del settore antimafia abbia fatto tutte le opportune verifiche perché tante volte sugli eventi raccontati sono state fatte delle verifiche e poi saprà la direzione antimafia se le verifiche portano un piccolo cerco o perché non si riesce ad andare avanti o perché si è assodato che la storia è falsa oppure si trovano gli elementi per cui la storia è vera e a maggior ragione si mantiene la segretezza fino a quando magari domani non si arriverà a raccontare una storia di questi elementi ne sono stati raccontati in aula questo incorreggio a me personalmente è impressionato perché il valerio descrive un'azione che sembra quasi lecita cioè dice noi a Prato di Correggio abbiamo comprato dei terreni tanta terra l'abbiamo comprata e dopo questa terra è diventata edificabile e abbiamo discusso con il comune quando è diventata edificabile noi in cambio del fatto che è diventata edificabile abbiamo realizzato delle strutture pubbliche una palestra e un centro sociale che sono nel tal posto nel tal posto io dopo ho letto questo interrogatorio che è stato fatto nei sei mesi in cui con la propria giustizia vengono valutati per capire se sono attendibili quindi riservatamente dai PM poi i verbali però devono essere portati in aula messi a disposizione anche gli avvocati e i pensori e gli imputati verranno di nuovo interrogati su queste cose negli interrogatori Valerio non è così dettagliato come è nei verbali io ho letto i verbali allora sono andato un plato di correggio e ho visto effettivamente tutte le cose che mi raccontavo in questo verbale è la PM che ad un certo punto dottoressa Lucchi chiede a Valerio ma Valerio mi sta dicendo se questo è una cosa lecita uno scambio alla luce del sole trasparente cioè tu mi dai mi consigli di guadagnare prendendo il ficato per un terreno che è mio è nel campo dei servizi pubblici e lui si è cadente e gli dice ma che è legale dottoressa questo fare si fa perché noi ungiamo il dirigente che ci dà le informazioni non riusciremmo a farlo no? questa non sappiamo se è una storia vera o no ce ne sono alcune gli scandali accertati sono quelli che vengono fatti a finale Emilia nel posto del mondo lì c'è un dirigente comunale condannato processo ed è l'unico dirigente comunale che è stato condannato qui vogliamo capirci una cosa noi possiamo discutere sul significato etico sul valore politico simbolico di certe cose anche se non sono reati penali ma attiene alla discussione normale se ragioniamo del cos'è reato penale allora qui abbiamo un solo politico condannato e un solo dirigente amministrativo condannato il politico condannato che è stato un gruppo di forze italiane il nostro provinciale il nostro comunale del popolo di libertà a Reggio Emilia assolto in primo grado condannato in secondo con la Cassazione che lo rinvia di nuovo ad una nuova sezione della corte d'appello perché il processo va in fatto non perché lo ritiene innocente perché semplicemente secondo la Cassazione l'appello non è stato fatto con tutti i crisi tecnici con cui dovrebbe essere fatto l'analisi della posizione italiana il dirigente condannato è Giulio Gerlini il dirigente dell'umanistica del comune di Finale Emilia che è un dirigente che assegna tutti gli appalti diretti che può alla Biappini Costruzioni SRL della Biappini Costruzioni e che riceve un premio sul monte lavori degli appalti che da Ode prende lo stipendio riceve un premio del 2% di quanto dà di soldi alla Biappini Costruzioni lo riceve davanti al dirigente che però non è stato condannato neanche imputato il quale è anche un amministratore delle medie di Costruzioni quindi un giro perfetto e questo è un scandalo accettato il signor Gerlini con il premio si muove una barca a vela 12 metri che racconta il marisciato D'Agostino come parte il marisciato per l'Italia al nome di questo scandio c'è una cosa grande con una casa per farvi capire i tanni che arrivano per me è solo che il signor lì si è portato a casa tutti gli appalti che potevano andare tra le aziende non con le muse sane perché lui usa persone dell'andrangheta e quando a un certo punto gli arriva l'intervittiva antimafia della prefettura di Modena anche lì con delle complicazioni politiche che lo sto a se volete qui ve le raccomando perché c'è convolto con richieste di via giudizio il senatore il senatore Giovanardi che ha fatto pressioni per tirare via questa intervittiva ma la via di postazione che c'è l'intervittiva è solo i mafiosi a dire non possiamo più stare con lui perché non ha più un nome accettabile se si ribaltano si ribaltano le parti via Chini e talmente tanti lavori di postazione da fare che non si preoccupano di svantire le macerie come le regole guantite e quelle macerie c'è tantissimo ce ne è incominato quindi accatarsi il cemento amianto dove può nei modi in cui riesce ci fa i pavimenti delle scuole per fabbricare degli esibili nuovi e delle loro scuole quindi fa le scuole sulle basi del cemento amianto e quando l'arco va a controllare e comincia a trovare il cemento amianto cerca di comprare più persone che può nelle amministrazioni dell'arco per tenere tutto nascosto non ci riesce i carabinieri sono una forza incredibile da questo punto di vista perché resistono alle pressioni politiche che dicono per noi c'è stato un messo di lecito di andare avanti e si va avanti a dire l'illecito e se avessero ceduti i carabinieri forse non sapremmo niente di questa storia ma vi dico che il sindaco di un altro comune San Friggio sul Panale dove c'è la sede dei vecchini i lavori venivano assegnati fino a l'inferno e la sede San Friggio dice ad un certo punto il dossier comunale che si è trovato qualche frammento di cemento amianto poi viene chiesto quanti sono questi frammenti e la stima che da lui è tra i 9 e i 100 mila tonnellate nei verbali del processo di l'inferno si parla di 250 mila tonnellate sappiate che una molecola di amianto è sufficiente per scalterare un uomo di portare questo significa che se sono state commesse vi faccio vedere una foto perché trovo veroso è una foto fatta vedere in tribunale allora questa è la frazione di San Biagio qui c'è un campo sportivo un cimitero un asilo la chiesa la parrocchia di questa frazione in questa zona ogni anno si celebra una sagra tipo la sagra della Cereda qui da noi sono due diversi giorni migliaia di persone per 4 anni sono stati stipati questi puntini bianchi sono dei big bad cioè sono degli enormi contenitori contenenti macelli con ceduto amianto che hanno cominciato a lacerarsi a perle con la materia che va nell'acqua che va in giro per l'aria la stragrande maggioranza è stata portata in sede da Bianchini questa è la dimensione di una macchina che può stare a vedere quanti grandi che sono 30.000 tonnellate sotto non è stato dato un soldo alle curature fallimentari a parte i soldi dell'amministrazione giudiziaria per cercare di smaltire questa roba costava 20 milioni smaltire questa roba da poco lui aveva solamente 15.000 euro a disposizione e poi lui si fa trovare un po' di soldi dal giudice Siroldi di Bologna e riusciva a comprare questi devi che garantiscono la tenuta del cedito amianto per 4 anni questa roba l'ha mostrata nel 2016 in aula tra un gran netto c'è da rifarla questi sono i veri scendimenti ambientali perché noi non lo sappiamo oci se è stato commesso qualcosa di meno però vi dico che un sindaco che ha mostrato un particolare coraggio in questa situazione è stato il sindaco di Leggiorno il nostro sindaco nella nostra provincia Barbara Bernardelli che dove stavano tirando su il fabbricato di un asilo nuovo quando ha saputo questa notizia ha imposto alla cooperativa che aveva l'appalto tra l'altro se lo ha fatto a Bianchini di scavare fino a 7 metri di portare via tutto e qui non c'è il restato che non c'è lui è stato l'unico sindaco che ha tutta la forza di andare contro a un sistema che comunque c'è ora è cato Bianchini è arrivato a cementare e ad asfaltare dei pezzi in terreo perché non si vedesse cosa c'era l'ha fatto fare di notte prima che arrivassero i tempi c'è andato e arrivati lì non potevamo più andare poi queste sono storie che purtroppo sono state raccontate e lo Stato non abbiamo solo ah le carceri e lo Stato non abbiamo andato in questo momento non più perché non lo so questo ti va a vedere ma non più è assolutamente un colferone migratorio che c'era prima perché si si è risultato dei danni che venivano provocati e invece è vero il fenomeno dello spostamento delle famiglie qui c'è un altro elemento i mafiosi hanno le famiglie numerose e per uno che è carcere 5 pubblici sono a casa parenti di garanti dice nell'ultima udienza numero 194 quando fa le ultime deposizioni spontanee dice non pensate con le sentenze di amiche che è quella doveva venire avete risolto il problema qui non è finito niente il pariscipre vuote dice perché gli uomini sono in carcere le donne che sono il vero cordone umbilicale della cosca dice continuano a gestire l'attività fuori i ragazzi giovani vengono su e continuano a gestire loro le attività lei le attività c'è questo tema delle gambe familiare un problema molto delicato anche di relazione anche con persone oggettivamente incensurate che hanno il diritto di vivere la loro vita serenamente normalmente io vado spesso a fare lezioni nelle scuole due volte chiedo sempre ai professori avete dei ragazzi tpd perché non c'è una strategia di aver rispetto di loro magari stai parlando di suo zio di suo cognato di suo non è detto che un ragazzo sia colpevole solamente anzi non è colpevole solamente perché i parenti di poi le storie dell'allarga ci vuol dire difficile uscire dal contesto familiare torniamo il nostro caro amico giornalista che è più impastato non è che ha detto ciao mamma ciao papà io vado prego accomodati non è così però un tema ma che c'è in grande buona casa prego Sabrina Sabrina segue sempre le generose frequentemente quasi sempre praticamente forse ha seguito più di me e non so come faccio perché tu sei la telografa e in tempo reale se dovete seguire sui corsi scrive quello che viene detto allora si dice erroneamente che amate da lavoro e a proposito appunto di bianchire il fatto che cercava appunto il lavoro, la magopera da Andranca è vero che Andranca è da lavoro e come lo guarda lui? è esattamente il contrario è evidente che poi l'ucidio da lavoro vi spiego come è venuto il passaggio degli uomini e dei soldi nel caso del clima stiamo sempre su quel tema di questo grande drama del terremoto servono di 25.000 persone scollate cittadini feriti cittadini morti insomma c'era una stazione delicata vicino di costruire in fretta arrivavano poi i furgoncini da Montecchio da Bibiano gli uomini che venivano portati nei cantieri i cantieri venivano a caccia i caccia di chiusi i sindacati non potevano entrare neanche gli ispettori del lavoro riuscivano ad entrare oppure hanno comprato anche qualche ispettore del lavoro pagato perché non andasse a fare i controlli a questi uomini che lavoravano dell'andranca età venivano date delle buste paga alla fine del mese che erano sempre sotto i mille euro questo per garantire la possibilità di poter dire alle autorità che facesse i controlli l'ho pagato in contanti perché sotto i mille euro si può pagare in contanti non è obbligatorio la tracciabilità bancaria quindi i boniti però Bianchini dava solo la busta paga dice la tesi dell'accusa che è stata la cittadinanza e riconosciuta e di un grano dava solo la busta paga non dava i soldi poi una società di Bolognino società di mafia faceva una fattura a Bianchini che ne so ti ho prestato una gru una macchina importante per tre mesi e Bianchini la pagava 50 mila euro a prezzo di mercato questi 50 mila euro venivano fatti passare di società in società nell'andranca età fino a che arrivano Gianni Florovito presidente del centro di Scandiamo con la sua amante il quale ha un rapporto privilegiato con la direttrice di posta impresa a legge la responsabile di tutti i sportivi bancari di posta italiana al servizio delle imprese che dice oh devo venire a prendere su 50 mila euro ci pomeriggio ma te li ho già dati ieri eh mi servono altri 50 ho già fatto i versamenti stamattina ma ho le pensioni non è abbastanza contante non ho mi servono i precicoli vabbè passa dai fai presto così versamenti e 3 mili 7 8 10 volte alla settimana sono tutte operazioni che un direttore del posto impresa un direttore un omolo sportello bancario dovrebbe immediatamente segnalare all'unità centrale di banca d'italia per le persone sospette che si chiama WIF unità di controllo ma nelle poste italiane il mandato che mi ha dato ai due miei sportivi e ai direttori era voi non segnalate banca centrale come di là come di mezzo l'ho segnalato al nostro responsabile di Bologna che ci pensano a lui infatti lei si giustifica in aula dicendo ma io la regola interna è che lo devo dire la responsabile di Bologna e adesso lui dice non conosco le vostre regole interne dei posti italiani ma conosco molto bene la legge italiana dice lei doveva fare la segnalazione a Roma non al suo direttore però anche lei non è stata indagata e poi le chiede a lei ma lei per caso conosce il centro estetico Parì che si trova al centro di Scandiano e dice sì ma è andata qualche volta a farsi un lifting sì sì lo ando ogni tanto e lo sai di chi è quel centro estetico dice ma so che è stata una donna sì l'amante di San Di Floro che ha i versamenti dice ma lei mi pagava i trattamenti dice no così come per le mie non do i soldi alla draga no io ho scritto un libro per le cose che racconta l'ho scritto che la risposta esatta era sì perché tu devi pagare non è che non paghi e poi dopo fai i soldi di fare la recrima lui in modo della draga perché magari impensionati avvenivano queste cose però vi dico una cosa di più dopo che li avevano stati le movimentazioni postali fatte con lo stesso schema con lo stesso sistema non è che sono andate a zero sono aumentate quasi raddobinate questo ce lo dicono le analisi che fanno i funzionari di la CGL di Romagna attraverso i documenti e lo dice anche la promessia recentemente è stato scominato un pezzo di attività della posta che invento per esempio parlare di operazioni camaleonte le stesse identiche attività che facevano qua gli stessi uomini arrestati qui li facevano anche là ma le transazioni e le finti operazioni finivano sempre negli sportelli postali della provincia di Reggio Miglia o di Mordia a un risparmio di Piacenza l'Umbra di Lidia lo avevano tantissime persone che vanno a versare e poi a prelevare con operazioni sempre sotto i 500 mili euro torno al tema iniziale perché va imposta arriva i versamenti che arrivano dalla Bianchini Valomino diventano contante e a quel punto chiamo i lavoratori che hanno quella falsa busta paga ma non gli do i 990 euro perché devo tirargli via il PFR la liberità la malattia i versamenti qualsiasi tipo di versamento contributivo il buon impasto la tredicesima la quattro dicesima ci sono meno operati questi alla fine ti do i 50 anni e se qualcuno protestava veniva ammianciato con l'arma io ho scritto un articolo l'unica volta che sono seriamente ammianciato di Turella da una grossa impresa carrucolette per dire nobile di Cenoba IRC perché lei prende a sua volta una d'opera dalla cosca indiana dai capi di Piacenza che sono da manda e muto uno collaboratore di giustizia a cui ha processo a regge mila di uno molto importante e lui racconta che gli uomini che la mafia dava a questa BRC venivano in realtà incetrattati da scambi perché dice ci pagava 5 giorni ci assumeva 3 giorni la settimana ci licenziava 4 ci riassumivano per ora lavoravamo 6 o 7 giorni di profila gli altri ci pagavano in nero quello che mi pareva lo racconta e quindi lo scritto presente da BRC dice ti guerreo perché mi hai rovinato mafioso e dice quello lì è un conto valle c'erano due che erano rimaste lavorate il corto di giustizia che racconta questa storia è un altro che è in galera alla nostra volta sicuro io con tavale l'altro invece è un bravo lavoratore tanto che all'altro io ho tenuto il posto di lavoro che c'è in galera perché i loro principi lenti nel posto di lavoro ad un mafioso dichiarato che è in galera perché dal suo punto di vista è un bravo lavoratore non conta che è mafioso però io racconto queste cose per dire che se non ci togliamo della testa che non può essere di colore assoluto spendere meno o guadagnare di più non può essere un valore che viene prima della legalità e noi spesso qui da noi spesso purtroppo l'abbiamo messo prima della legalità questa la legalità vede dopo prima è pagare meno tasse che si può guadagnare più che si può spendere meno di più per cui vanno bene anche i lavoratori della garantita e questi sono fatti che sono ampiamente stati accertati un altro io ho fatto un'interna storia e i calabresi facevano tutti gli anni una cena lei non si allora erano 22 tavoli per 12 persone tutti i sbocchi tutti i bambini lei pensa che in un tavolo di 12 persone alla fine c'erano 30 bottiglie di coca cola i bambini portano la coca un'altra la gente dice ma come l'unico gli dice ma scusa ma accettevo finite con quelle cioè non riuscivo a capire quello è il fatto della ramificazione delle varie ma i matrimoni erano una cosa impressionante ma ripeto venivano dalla Germania e si trovavano e questa era tutta la luce del sole quella c'era che quello si è tirato il primo maio si è tirato il fatto di quella che si trovavano in questi calabresi ma tra di loro invece tutti avessi loro degli abiti con piene forse anche una loro mentalità perché io a volte andavo in Puglia e i matrimoni che fanno giù durano tre giorni però ho fatto qui più un alberto c'era un matrimonio a Dinea la sera non si è riuscito a dormire perché c'è loro hanno questa però ripeto vedere a Regenini queste persone tutti con altri da sera io non c'è e poi c'è la politica ma ripeto la libertà cioè quando un bambino in un tavolo di 12 persone alla fine ci sono 30 bottiglietti di Coca-Cola era una cosa impressionante cioè tanto io non ci parli però lei non ha mai visto la festa di Puglia dei nostri bambini me donna qui adesso più o meno più o meno l'ha visto è sicuro è una bella gara ma penso che c'è una questo voglio dire che questi bambini crescevono con una libertà di fare quello che se dicevo qualcosa ma anche non è la farà di te mi offre il secondo per fare una riflessione che è sicuramente mio nel processo noi abbiamo una comunità di calabresi non lo ma il 300 di paesi che sopra le 20 persone sono pezzi importantissimi la cosa peggiore che può derivare da questo processo che è senz'altro un processo che mette sotto accusa dranghettistiche il 99% governo ma tutto è che nasce un razzismo incrociato per cui da un lato noi reggiani diciamo un 3 uguale mafiosi e non è così per la stragrande maggioranza dei paesi che sono punti dall'altro loro dicono ci avete usato quando c'era bisogno di mano d'opera che si stocasse le mani e poi ci avete dato un calcio e se ne ci avete buttato via questo è grande e questo rischio lo si supera solo poi ho distruttore alzato la mano dicendo quello che ha detto secondo me giustamente il presidente Caruso un testimone consigliere comunale peraltro per il PD a legge Emilia di origine putresi che diceva io ho passato tutta la vita difendere putresi onesti e lui ha detto ma qual è il modo migliore di difendere putresi onesti che non denunciare quelli disonesti qual è il modo migliore di difendere reggiani onesti che non denunciare quelli disonesti cominciamo a distinguere tra chi vive nella legalità e chi è disonesto non tra chi è putresi o reggiano forse questo ci aiuta a superare quel rischio che c'è oggettivo oggi di creare due comunità separate sarebbe un danno penso per tutti noi questa è solo la mia opinione prego d'altro voglio una ringrazio per aver fatto una disamina del processo con tutta una serie di elementi che ci sono molto utili per capire la portata dell'evento che si è svolto infatti lei correttamente ha fatto tutta una serie anche nelle slide di enunciazione dei numeri delle capacità che hanno e ha parlato di un'associazione mafiosa che è la D'Angela a questo punto dobbiamo scommare anche tutte le altre sostanzialmente il che ci fa un quadro che è decisamente allarmante e che ci deve portare ad una riflessione è il motivo per il quale io da cittadino sono qui voglio scapire per riflettere cosa possono essere i contributi che un cittadino normale può dare a una situazione di questo tipo tanto io penso che è giusto che la magistratura abbia tranquillità di poter fare tutte le analisi che deve fare e che in parte ha fatto e quindi continuare sicuramente su questa strada con delle procedure che non sappiamo essere consultate ma attenzione ai processi mafiosi noi guardiamo la riflessione della cittadina è che noi ci troviamo di fronte a un fenomeno che come giustamente diceva lei è da tempo che si sta radicando in questa realtà in questa provincia e io provo un po' a pensare a che radicamento può avere questo tipo di società mafiosa in provincia e in regioni come la Lombardia che è ancora più ricca della nostra noi siamo in una zona post-agricola e quindi diciamo così se noi siamo in queste situazioni immaginiamoci poi delle altre quindi il fenomeno è molto preoccupato e che cosa può fare un cittadino se non con i dati che voi ci mettete e ciò la ringraziamo sul tappeto capire quali possono essere le situazioni come si possono affrontare intanto noi vediamo che diciamo che in questa cosa qui sicuramente una parte d'evole è stata nelle istituzioni perché a parte c'è la politica c'è la giustizia ci sono le istituzioni c'è la burocrazia che sono tutta una serie di famiglie e ordini di cose che sono state interessate da questo fenomeno le istituzioni sono state deboli in queste situazioni e come possiamo fare come cittadini per riuscire a dare un contributo rafforzare le istituzioni cioè io se fossi un amministratore pubblico che io chiederei aiuto al cittadino il cittadino mi desse forza attenzione forza al problema perché poi dopo hanno un percorso che non è indifferente perché devono intanto assomere le iniziative che devono tendere a tenere fuori di qui in poi queste organizzazioni che sicuramente non hanno bisogno mai quindi se non hanno forza se non hanno attenzione a parte del cittadino secondo me fanno molta fatica sono esposte quindi perché sono voi prima persona quindi secondo me il cittadino va coinvolto e va portato a dare forza alle istituzioni le iniziative che avete fatto voi sono importanti se vanno a una direzione quindi il cittadino deve partecipare a queste vostre adunanze assumere gli elementi e dare forza alle istituzioni e secondo me le istituzioni loro volute devono anche andare a cercare questo grande consenso popolare è l'unica cosa che può muovere che può dare quella forza necessaria sconfiggere questa realtà se non c'è questo consenso ecco secondo me sarei molto attento in questa fase a dividere la pubblica opinione a dividere il cittadino in un controllato no l'obiettivo deve essere comune perché stavola qui è una cosa che è impressionante lei metta nei dati che ha dato che ha messo lì i camorristi i mafiosi e quante altre la sacra cronomite che abbiamo anche secondo me io l'ho raccontato pochissimo voglio dire no vabbè immagino lei ci ha messo lì un iceberg voglio dire immaginiamolo quindi ecco che salta fuori il problema il problema grosso è il consenso è la forza che noi possiamo dare alle istituzioni e che questi devono ricercare necessariamente poi dopo il discorso della bianchina e questo è un emblema è una ditta se noi facciamo il conto per fatturato che fa la bianchina pur fatto in modo legittimo legale tra un voletto no lo mettiamo assieme al fatturato che lei è citato della dranga ed è poca cosa voglio dire che c'è di più c'è stato molto di più testimonianza a mia personale io dico che noi siamo in una realtà che non ha vissuto proprio in un modo secondo me così sanguigno la partita perché il nostro territorio parlo di Castellarano io non l'ho visto molto fortemente coinvolto in questa in questa situazione da quel che capisco io quindi secondo me bisogna che in un certo momento noi siamo critici ma obiettivi cercare di trovare consenso di un'azione che deve essere messa in mano a coloro che vivono le istituzioni se ne lasciamo a sole siamo freddi un'altra volta assolutamente d'accordo su questa fine mi permetto di dire che per sconfiggere la mafia bisogna essere sì ma è una comunità che sconfiggere non è male uno simbolo nell'uno a uno vincereanno sempre loro non c'è nessuno di noi che a partire da Medica dal singolo poliziotto che può vincere una sfida la sua si dice una comunità simile gli amministratori hanno le loro responsabilità nel senso del valore delle responsabilità ma tutti gli altri hanno la loro responsabilità il singolo cittadino non deve essere obertoso l'associazione imprenditoriale deve cominciare a capire che non può coprire le pratiche illecite dei suoi associati i sindacati devono capire che la difesa dei principi dei valori del diritto al lavoro va fatta sempre e dappertutto a posto anche di istiare mi ha fatto molto piacere sentire il segretario della Camera di Reggio e dire guardate che a noi lo stipendio ce lo pagano dei lavoratori che sono in difficoltà e perdono molto poco che però si tastano per farci lavorare quindi noi non dobbiamo tenere il cumulo c'è tutto su una sensora ma dobbiamo andare in giro lavorare per loro si fa così lo fa nei singoli cittadini che passano col verde non col rosso cosa che vediamo tutti i giorni cioè le pratiche di legalità devono riguardarci tutti noi non c'è qualcun altro che risolva il problema dell'andrangheta cioè cominciamo noi a raccontarlo con una cultura diversa sono d'accordo con lei che ormai siamo a dei livelli di penetrazione signori che non è più un problema di altri questo è un problema che abbiamo in casa è un problema grande a casa come si dice da noi e se fino ad oggi in qualche modo tanti hanno fatto finto oppure semplicemente non l'hanno vista perché non è che tocca a tutti l'andrangheta oggi noi non voglio finire non può sbalterci tutto il mondo guardate vi spiego cosa significa 416 bis perché un'associazione di lingue può essere fatta da 5 persone che vanno a rubare in banca ed è un'associazione di lingue normale che risponde del codice di procedura penale codice penale non di procedura che è 416 punto 416 bis sono i 5 che vanno a rubare in banca come gli altri ma lo fanno servendosi nel vincolo dell'assoggettamento dell'omertà cosa significa assoggettamento dell'omertà significa che io ho creato nel territorio in cui io opero una situazione tale per cui la gente sa chi sono io e sa che sono uno pericoloso sa che sono un mafioso sa che non mi può trattare come una qualsiasi persona sa che basta una mia parola per far intendere cosa ci può essere detto dice un procuratore a Mescolini guardate che nessun imprenditore nessun cittadino sbatte involontariamente contro l'andrangheta perché l'andrangheta la prima cosa che fa è farti sapere che ha a che fare con l'andrangheta perché ti vuole mettere paura perché vuole creare la condizione per cui tu obbedisca e faccia quello che vuole poi dopo non dirà mai e tu non dirai mai che hai incontrato l'andrangheta proprio perché hai pochi questo è l'associettamento questa è l'omertà che deriva dall'associettamento cioè non ho visto non ho sentito niente non so niente e dobbiamo cominciare ciascuno al suo livello di responsabilità chiaramente le responsabilità sono diversissime da 0 a 100 per ciascuno di noi a non accettare questa logica ma questa logica secondo gli inquirei secondo i giudici ha penetrato anche il nostro territorio cioè l'omertà ormai c'è anche qui una volta è rascorso al sud per cui il tavolo vino nel negozio eppure avendo un bastone ho 70 anni non un mitra diceva sono venuto mi devi dare un contributo e tu capivi già cosa c'era lì e adesso questo è arrivato per noi non fanno il pizzo guardano qui oppure ci hanno provato ma sono proprio hanno altri sistemi e fanno soldi in altro modo ma però c'è questa questa pesantezza che si descrive anche le nostre terre a proposito di overtà tornando a Cattano probabilmente è rimasto il suo giorno di lato solo il gerame a suo suono lui organizzava cene facendosi portare arance e pesce dalla Sicilia con gli impeditori della gerame della zona e l'unico carabiniere che ha usato lo zare e dire ma c'è qualcosa che non va è stato spostato è stato messo a facere e tutto quello che è successo con per soli due anni sotto il pubblicato è stato segretato fino a 50 anni dopo la morte di l'argomento quindi dopo i 50 anni sapremo chi ha incontrato e chi ha fatto questo per dire all'immigrazione che c'è stato molto certo io mi fanno riremente per vedere questa slide per dire che ci sono tanti pesce della nostra società singoli cittadini che ha forza politica che ha forza politica sono le forze di ordine però prima di dirvi come chi è stato fuori vuole dirvi che non c'è mai semplicemente il buio c'è anche la luce perché questo processo è stato fatto grazie a una straordinaria capacità investigativa di alcuni uomini delle persone del settore politica e alcuni uomini come dei corti della guardia dei finanzi e dei caratteristiche anche della professione che hanno saputo vincere degli ostacoli delle resistenze anche loro in casa loro veramente con una divisione straordinaria di una capacità investigativa di sapere collegare i vari elementi con la forza e non è stato semplice anche perché le singole persone possono cedere in questo processo ci sono singoli poliziotti singoli carabinieri singoli ex poliziotti e carabinieri che hanno ceduto questi signori sono stati tutti colonnati Antonio Cianflon l'ispettore di polizia della squadra mobile di Catanzaro si è preso 8 anni e 6 mesi passato in giudicato veniva qui a Reggio Emilia a far affare dormiva in un hotel a Cabriaco Matacea Francesco l'ispettore della squadra mobile di Catanzaro a 9 anni in primo grado a Reggio Emilia Domenico Mesiano assistente capo polizia di Reggio Emilia autista di questa Reggio Emilia quello che ha intimidito la giornalista Sabrina Pignelli di Cener non avere visto in questo tipo di contro questi gravi signori che erano di Corino Sacone e compri 8 anni e 6 mesi Maurizio Cabriero sovraintendente della polizia stradale di Cremona 8 anni e 1 mese più di 10 anni è uno di quelli che ha scelto a Reggio Emilia anche un grado abbreviato quindi si è decato due condanne per i reati commessi fino al 2010 e poi dopo dal 2015 fino al 2015 e poi dal 2015 al 2018 mentre era in Gareotti del libro Domenico Sarpietro ha puntato scelto del Carabinieri di Reggio Emilia ha patteggiato appena inizia a terminare ma non doveva neanche fare il processo dice sono colpevole da di Carnizio Mario che cagliere di Carabinieri congito a 9 anni in primo grado cosa facevano ad esempio questi signori albisavano i mafiosi delle indagini in corso andavano a consultare le banche d'arte in quest'unico da Carabinieri guardie di finanza e poi dicevano attenti dicevano guardate che ti hanno messo una microspia sulla macchina c'è di chiedere Bolognino che è il pastisce compra delle macchine da 100-200 mila euro a volte la più commerci in auto rubate in giro per l'Europa e quando gli dicono ci sono le microspia c'è per smontare non le trovo e allora dice io brucio l'auto la settimana le nasce a noi hanno stato bruciata dice allora le mettono le microspia io le brucio la settimana e cambio macchina ogni settimana ed era guerra tra quei là che mettono le microspia il poliziotto può dire il poliziotto dove c'è là e lui Alfonso Diretto uno dei sei capi capo a Brescello e a Parma ad un certo punto dice alla centri dei suoi amici lo dice nel 2000 e alla fine 2013 e 2014 scappate perché si stanno arrivando addosso o informazioni certe qualcuno scappa in Polonia va via poi tornano e li beccano dove sono tornati ma hanno hanno delle persone e molti dei mafiosi sono di casa in questura a Reggio ci sono tantissime foto che riguardano il questore dottor Callo con tutti i principali mafiosi di Reggio Alfonso Paolini Pasquale Brescia i lavori e le ristrutturazioni in questura li fanno le imprese mafiose al questore a casa un muro è rifatto un mafioso i poliziotti vanno nel maneggio abusivo di Brescia alla periferia di Reggio perché lì i cavalli si possono tenere senza pagare l'affitto perché poi i mafiosi sono bravissimi e ti verranno sempre a dire che hanno qualcosa ad esempio mi dici per favore se mi stanno interessentando oppure no questa è la logica e tutto il corpo il polizio dei carabinieri che ha fatto affare con la Zangheta no sono singole persone tanto che in polizia mentre venivano queste cose c'era l'attuale comunale squadra mobile Battisti che lavorava a cada via cercare di non cercare presentare quindi i suoi colleghi poliziotti che ci ha fatto con la Bragheta cosa può significare quanto è dedicato e quanto è per il mio lui davvero un grande lavoro ma c'erano le persone alcuni carabinieri in giro con la provincia che hanno oscillato il rapporto di quartiere c'è una storia emblematica di Brescello una delle storie che racconto il salame di Brescello perché i partitori non vengono mai inizialmente a minacciarti tu come un punto a chiederti vuoi stare con noi che siamo la Bragheta cominciano con un piccolo favore c'è un uomo da spiegare che vai il CCL dove ha la professione previdenziale per vedere i suoi conti e alla fine lascia lì un salame e c'è il funzionario di un ragazzo e c'è questo è un uomo perché lo conosce ogni tanto va lì all'Inca a far si fare proprio i conti e sto ragazzo dice ma no il salame non lo vuole ma perché però sul punto è buono il terrolascio e lui dice no non lo vuole e cominciano a chiedere fino a che quello là il salame dice tu il salame e io il salame ti lo lascio e tu te lo prendi e poi fai quello quello e va via sto ragazzo ha il salame cosa faccio chiamo la responsabile che si è inizialmente a quest'altra e dice oh qua come va perché andrà chiamato il salame cosa facciamo forse la chiamiamo segretario provinciale riunione della segreteria il salame impacchettato il salame indietro la riconodata il risultato di ritorno la ringraziamo ma noi sentiamo regali e le ho detto prima di quest'azione a Brescello volevano i salami di testa all'uomo e tutti i amici ho le reti a prenderli perché loro fanno così ce ne creano dieci anni ma cominciano a fare con i formoli qui uno là entrano il bidone della scuola aspetta che ti do poi devi fare una rotonda poi 500 euro te li danni l'impresa ma cosa somma se non su di 500 euro niente per una volta dove va a finire che una impresa lì si porta a casa un appalto e poi va a finire che si porta a casa un'altra parte se ne porta a casa 10 va a finire che fai un quartiere che chiami Crutrello che gli consente di costruire casa dove vogliono loro va a finire che si compra un paese è una storia ripetuta tramite da due volte in Italia che Brescello non fa storia non fa storia perché la storia è tipica avviene così l'inserimento mafioso da paese piccolo da paese piccolo solo i Brescello non ci credono perché sono detto una logica alcuni non dite perché sono detto la logica del ma come non è mai successo un impegno di tratanti non è mai stato commesso un reato formale ma la cultura della prevenzione dell'infiltrazione mafiosa ci dice dobbiamo stare attenti a questi fenomeni a questi negali dobbiamo prevenire perché se non preveni non è troppo tardi purtroppo questo succede a Lucinasco a Pugliasco in Losardie in Pimonte la granica si rinunisce nei saloni con le foto di un po' se viene per come dati in affitto senza neanche con questa logica ma sono amici sono bravi persone tutti i posti della grande le posso chiedere ma il dottor Gallo è stato condannato il dottor Gallo non è stato condannato ma è stato indagato il giudice dottor Caluso alla fine della sua deposizione si rende conto che lei è un modo importante servitore dello Stato fatto qui una figura peschina si riferiva all'autista no no si riferiva a dottor Gallo questo guarda io alla festa degli frustriali nelle bighi di giro che fanno tutti gli anni d'estate il dottor Gallo ha sempre seduto al tavolo per presidenza e il suo autista allora noi facevamo la polizia tutti gli anni facciamo al tavolo e il dottor Gallo mi voleva visto e mi faceva mandare a quel po' fatte con il dottor Gallo di fianco da misiano domenico le vanno a gianosfogli con la macchina questa è una buccia per tutti però mi sembrava una bravissima persona il dottor Gallo a me sembrava una buccia il dottor Gallo mi sono giornalista sembrava che aveva una bravissima persona probabilmente è a piedi libero è a piedi libero diciamo che io ero lì in aula quindi vi dico faccio una premessa io penso che il giornalista deve credere ai propri occhi alle proprie orecchie alle proprie orecchie alle proprie orecchie e dire prestamente qui ci mette la firma quindi più di così non può fare io ho visto uno che ha detto della roba da chiodi perché uno che dice io Alfonso Paolini quando erano 18 anni le borse della Granita l'avrò visto una volta o due dice ma mi davate il tu? no no io non mi davo del tu non mi ho mai dato del tu dottor Gallo va lì ad Arezzo e diventa quest'ora parma intercettano Paolini e quindi intercettano Paolini che telefonano dottor Gallo Paolini fa la guardia giurata formalmente in un supermercato oltre a un paese oh vieni qua che ho bisogno basta il dottor Gallo parte con l'auto e va là e la PM la prestazione dice quindi lei trova normale che un signore che lei mi sono avuto due con cui dice non lo conosco neanche se io mi foto non lo dove scrive ma dice io mi foto le facevo con tutti quindi la Chiama dice oh vieni che ho bisogno e lei prende la macchina e la prestura e va e dice quando un cittadino Chiama questore risponde questa è stata la strada semplice detto dal questore dottor Gallo il mio moglie mi dice che non è che anche a voi fa un'impressione tanto bella e uno che dice no devo citare un disodio una cosa importante che è venuta in questo processo dopo come vediamo come di chiudiamo ma io sto qui anche fino alla mattina tra i dici so la presentazione dell'inno una cosa importante che è venuta in questo processo è stata perché questa questa corte ha avuto il coraggio per le decisioni autonome che io definisco storiche noi siamo stati a CGL penso primo caso in Italia in cui un grande il più grande processo per i piedi le arricchere requisitori che hanno trasmettere in diretta con un video ma è successo i professori non volevano e il giudice ha consentito che noi facessimo la diretta quindi uno da casa solo guardarli in diretta i professori non vogliono il tema si è proposto adesso il processo perché dicono normalmente nel processo penale i testimoni dovranno venire non devono sapere cosa sta dicendo quello prima di me in quell'altro ma così tutti possono sapere tutto e noi ci dicono però oggi i tempi moderni cambiano anche la giurisprudenza e la giustizia di livello basso anche i tempi moderni e una decisione importantissima è stata quella di accettare in aula i ragazzi minori nella prima udienza che buona che trasse la faccenda di Ferrara era un ragazzo secondo terzo dicevo vince anni 16 anni 17 il codice di posizione penale vieta i processi di questo tipo la presenza di minori quindi gli avvocati e i tesori che dicevano cosa fate qui in lato studiare hanno subito presentato un'istanza perché uscissero gli studenti e il collegio di suddicante è venuto con una sentenza che fa storia perché dice sì è vero che il 114 il codice di questo penale prevede che i studenti non possono stare in aula di un processo penale però il diritto all'educazione e la comprensione dei fenomeni sociali la grande relevanza come è un processo per mafia è sancitto da una legge più importante che è la costituzione che garantisce la potere di tutto l'educazione dei ragazzi quindi fino a che questi verranno accompagnati da professori che fanno un percorso didattico la scuola di educazione qui sono assolutamente accetto e ne sono venuti più di 3 mila in alto dell'ora e sono stati la vera presenza del pubblico accompagnati spesso libera assieme a da gente rosse che ha qualche funzionale in salida della CGL ma di cittadini dire una battuta a un certo punto che un signore era pubblico lei passo due tre volte poi li identifichi tutti i nostri studenti i familiari dei mafiosi che si girano attorno che fanno tutti i loro sistemi e questo signore a un certo punto ha detto scusi posso dire lei che dice io sono un poleciano si parete di bocù dice no ma ormai sapevo che c'era il processo e sono venuto era uno spettatore lei ha una notizia perché l'unico cittadino poleciano che ho visto 195 uglienze quando è sessuto a casa venire lì senza avere nessun interesse specifico che non essere un cittadino mezzano perché non è così scontato e semplice che tutti si interessano non è così normale al sud i mafiosi vogliono le aule vuote e spesso le hanno ha dato molto fastidio che ci fossero gli studenti i professori qui perché è una platea con i panni sporchi se ne vogliono lavare in casa gli avvocati di fronte a giornalisti studenti insegnanti non usano le stesse tecniche che usano quando le aule che sono tuole quindi è stata la presenza molto importante c'è questo signore che vuol fare una domanda ecco io lo chiederei un momento qua che detto fa sull'esercito che è partito che è partito dal pentito Valerio che è valerio è partito dal pentito valerio che richiesta il processo io lo ho detto questo valerio tutti e tre collaboratori di giustizia di questo processo imputati di questo processo sono diventati collaboratori di giustizia a processo iniziato quindi non è che hanno prima raccontato delle cose che hanno portato al processo ci sono stati altri collaboratori di giustizia che nelle loro ricostruzioni infatti prima le rise di questo processo hanno aiutato i PM e i Quirenti a costruire tutto insieme architurale la struttura molto ramificata di questa cosa un collaboratore particolarmente importante più importante in assoluto è Angelo Salvatore Cortese che è a braccio destro di un comune grande racchi crimine internazionale che nel 2008 diventa collaboratore di giustizia e lo diventa ed è lui si è veramente un pentito noi usiamo spesso il termine pentiti ma i collaboratori di giustizia molto spesso non sono niente pentiti semplicemente decidano di collaborare per avere dei vantaggi no? è un presidente è un presidente anche il PM è un bisogno che anzi proprio in sei mesi di interrogatori per vedere se mi racconta il terzo delle forze inutili allora bene se no torni in galera Nicolino Saccone ci ha approvato dopo un giorno gli ha detto torni in galera più qui anche la frattata del Valle Angelo Salvatore Cortese era stato processato per i delitti di direzione media i due delitti come stiamo parlando adesso assolto e ci conversa in galera indelizzato per il giusto di pensione con 100 mila euro e lui a un certo punto va dalle forze di polizia e dice io voglio iniziare a collaborare era libero e dice guardate che io sono davvero un di quelli che erano per i comandi negli ultimi soldi e comincia a collaborare questo è un collaboratore vero e lui racconta tantissimo della forza grande io l'ho ascoltato in aula è stato impressionante è un computer evidente ha una capacità di visualizzazione di memoria è una persona oggi libera che rischia moltissimo perché è molto spaventato anche da questi giustamente anche perché ha i parenti che non ancora ha la reggione è una persona straordinaria questo quello che direi io arriva a questo alla fine se non era lei o forse è quest'altro ma cioè senza questo apporto di questi pentiti che non ci si avrebbero fatto la giustizia esatto sono io che sono lungo mi stavo arrivando lì è il contrario cioè qui si è partiti con l'inchiesta quindi si è partiti con l'inchiesta che mette assieme anche non c'è mai i collaboratori di giustizia sono 5 o 6 che vengono citati all'inizio l'inchiesta da dove scominti e comincia al 2013 a scrivere la finita nel 2015 la richiesta di e ci sono già i collaboratori di giustizia che dicono delle cose ma l'inchiesta fa un lavoro che fanno carabinieri i guardi di finanza essenzialmente le mie romani gruppo di Ferasuadalta gruppo di Modena poco di Reggiano i gruppi fuori proprio perché il centro della legge meglio far operare qui fuori qui poi quando arrivano i collaboratori di giustizia qui nel processo e dicono Valerio lo dice voi avete fatto un lavoro straordinario perché mai nessuno era riuscito a ricostruire così bene diciamo in altri processi di gravità ciò che poi veniva ciò che poi viene confermato dai collaboratori di giustizia quindi si sommano le due cose e diventano prove schiaccianti questa poi i collaboratori non riusciamo purtroppo a sentire gli audio se non vi farei sentire quelle frasi eccezionali di Valerio che ho contenute e Valerio dice siete stati bravissimi dottoressa avete ricostruito qua tutto e lei dice quindi li abbiamo presi tutti dice eh no stai mica scherzando e dopo partono 12 pagine di unissimi non so le pagine bianche dove hanno tolto i nomi che lui sta dicendo perché su quelli dovranno fare le guidagini però dice voi siete stati eccezionali avete ricostruito la presenza della vostra cosca dei veri dei dettagli della profondità nel tempo nello spazio nelle vite economiche che non era facile fare e tutti e tre i collaboratori confermano degli elementi che trova già prima negli atti dell'editazione della e secondo lei se ne ha conoscenza perché è fuori zona cioè come qui sono stati bravi ad avere il sentore non so come e quindi aprire l'inchiesta e ad aprire anche i collaboratori anche in altri luoghi d'Italia si riesce a realizzare questa cosa oppure diciamo così le posso dare per certo questa cosa quello che sta succedendo oggi in Veneto l'indagine a Cavaleotto è un'indagine che ha 173 capi di brutto è un'indagine in cui lo dico io lo dico sorridendo non senza nulla togliere la DDA di Venezia di Venezia di Venezia di Venezia di Venezia si sono presi gli uomini venciani le carte venciane e vivono gli allori loro prendono i riconoscimenti di loro per il lavoro che è stato fatto qui perché tutto quello che era scoperto là era già stato scoperto qua semplicemente per competenza i reati commessi là vengono passati là quindi loro riprendono le carte ma trovi quello che era già stato identificato qui e tu Fecaro Sello che vi ho raccontato prima quella che vi ho che sono elementi importantissimi di questo processo arriva come conseguenza di naturale prosecuzione e perfezionamento delle truffe economiche dell'inchiesta point break l'inchiesta point break la fa sempre il procuratore Marco Mescolini che non è che quando ha finito il processo point break in giudizio si ferma continua a intercettare le persone a seguire e via piano è sempre così qui si è fatto un enorme lavoro poi in Lombardia dove il procuratore ha detto giustamente la regione più ricca delle Lighe Romagne dell'Andrangheta è fortemente presente più che le Lighe Romagne sono però succede che qua però c'è una cosca che domina la Grande Arachie là ce ne sono 100 comprese di Andranghie ma ce ne sono davvero tanti altri in Lombardia stavano pregnate adesso le Lighe non scherzo in Piemonte lo hanno fatto prima di noi e sono tre regioni in Veneto un po' dove lo vivano io ho seguito nel 2017 perché come i collegamenti ci sono bisogna anche informarsi con i convegni infatti in Veneto la piccola da Verona sulle presenze e lì si vantavano e dicevano voi non avete idea di cosa dicono di noi fuori dalle Seviglie siamo la feccia del mondo io quando vado fuori difetto dalle Seviglie alla Germania tutti i mafiosi è chiaro tutta lì è un modo per dire quando noi non c'è e lo dicevano quando era evidente che era anche da loro insomma cosa umana e però qui si è fatto un lavoro che è stato molto buonissimo che da altre parti non si fa quindi dobbiamo essere però però se io mi sto studiando ho studiato in particolare anche per i legali che ci sono le storie della mafia siciliana per ricordare la stazione degli omicidi nel qualsiasi processo di polvere c'è una storia che è emblematica di come va questo paese questo paese è stato un processo sotto mafia che ha condannato dei generali e degli uomini di Stato per aver fatto affari con la mafia mentre la mafia ammazzava dei uomini dello Stato per me non ci può essere più degenerazione di queste in questo momento è in corso un processo a tre poliziotti il quarto emofo che era comandante la barbera che mentre ancora fumavano le macchine di vedamedio della bomba di Paolo Borsellino sono andati via a depistare le persone dello Stato erano i desistenti a cambiare cose che erano via la scuola le agende e ogni volta che muorrono persone cedenti qui sotto i cuori vi sono di depistarci il signore che ha perché ci sono stati quattro processi per Borsellino Borsellino due, tre e quattro quattro non di elettorizzano perché c'è un problema di depistarci e il signore che ha depistato è stato mandato a dormire a Mazzaglia e viva qui lo scarantino che è di mestiere per depistaggi e delle indagini della Polizia di Carandiere sulle strage di Stato e tra il inganno è terribile il giudice del Borsellino Bis era il signor Francesco Maria Caruso il giudice nostro una persona vista è incomiabile di stimare l'ha anche lui ha sbagliato le cose ma non perché le ha sbagliate come giudice perché le prove che sono state portate lì erano prove false fatte da poliziotti che portavano prove false e quei poliziotti sono oggi a processo e sentite parlare molto spesso voi di come va quello di essere lì questa è la storia del nostro paese ci sono fiori di professori universitari ma non di sinistra cosa di cattolica che raccontano ormai un fatto storico accertato il compromesso stato mafia nella storia degli ultimi secoli necessario per una serie di elementi di cose che non vuol dire che lo stato in quanto tale fa accordo con la mafia ma che ci sono uomini e dobbiamo sapere che ancora oggi c'è una battaglia vera tra chi lotta in questo paese per la legalità tra le forze del loro tra le forze politiche nei governi nelle prefetture e chi invece si mette a disposizione da servizi dei poteri illegali carica esseri quindi non vuole essere scambi a Palermo specialmente una battaglia oggi molto astra e devo dire che il coraggio che mostra il prefetto Antonella De Miro laggiù qui è stata coraggiosa perché abbiamo capito che aria tirana e ci ha insegnato tutti diciamola così ho preso avvio e ho iniziato a fare i additivi senza guardare in faccia a nessuno laggiù stiamo facendo una battaglia profonda e vera e rischia la persona bene non scherzi Paolo una domanda tu sei mai stato fidacciato non ti sento sei mai stato fidacciato è una domanda io eh sì abbiamo spasciato la macchina la macchina più di un'area ma senza la quinta e il calciatore giocavano nella Juventus a giocare per l'Udinese ad entrambe le squadre piccoli in aula mafiosi nelle loro deposizioni sono andati i mafiosi a minacciare i vicenti perché non facevano giocare Vincenzi e la quinta e mentre con la Juventus non sono riusciti a fare l'entra di squadra e c'è la moggi che si fonde è più mafiosi di loro ma non lo so io sono un divorzore di Juventus quindi non posso parlare di male ma e con l'Udinese vengono di esserci riusciti a convincere di raggiungare però Vincenzo Iacchinta è imputato al processo come non ce l'ho fatto le armi di suo padre Giuseppe che aveva il porto d'armi come tutti i mafiosi grazie a quel discorso che abbiamo fatto prima sulla polizia compiacente vi dico questo in prefettura davano parere a seconda di che tipo di arma uno dei due prefetture qua stessero dal parere l'altro decide quando quando decidere che era la prefettura chiedevano il parere a questore e viceversa quando la prefettura dava parere non si rinnovi arrivava in questore e veniva spianchettato dice lui si è spinto si conceda e le armi di Giuseppe e Pintac il padre erano a casa di Vincenza non si può e lui dice ma questo non è un reato ma così ma così però guardate che la donna di Ceronchi racconta e spiega come i mafiosi in particolare gli angliettisti abbiano spesso due arsenali uno di armi detenuti per l'offese uno di armi detenuti per la difesa quelle per la difesa delle tecniche di casa mia sono armi legalmente depositate tutte apposta quelle per la difesa le devo mettere in casa di altro perché non le devo trovare e devo poter andare a prendere quando voglio a un uomo intanto che ho trovato due gamberie sufficienti con i magistrati nel 2018 per fare una piccola guerra nel comice di Giacchino Giuseppe Iacchinta è introdotto un uomo organico organico a suo caso sono schiaccianti ha partecipato da almeno 11 riunioni incontrare la scalazza a casa di Giulio Grandalarchi di Drangheta certificate con le intercettazioni era socio di tantissimi affari ed è una persona però che grazie alla popolarità che dobbiamo dare al figlio ha ottenuto il beneficio per me è stato scandaloso il servizio fatto dalle Iene la settimana dopo le condanni in cui ho intervistato il figlio Vincenzo perché quelli susuristi di chiesta non avrebbero prestarsi a queste cose e dice hanno condannato mio padre a 19 anni senza niente in mano il giornalista non è che egli ci compi senza niente in mano e un servizio da 10 minuti facendo vedere un volo ogni tanto perché così tu sei portato io sono nuovo in televisione quindi me ne intendo di come si possa costruire i servizi per orientare la tua sensibilità è stato terribile quello in 8 minuti di servizio hanno fatto un processo che ha durato 3 anni 300.000 pagine di verbani e una valanga di prove di intercessione semplicemente così emotivamente questo è molto grave ma il padre Giuseppe Iachinta quando ha ricevuto un'interdittiva antimatica ha avuto anche un sindaco il sindaco di Regione che con lui è dato a Bologna per vedere se si poteva togliere questa interdittiva e il sindaco dire ciò che si sostitica dicendo aveva delle case compiute dovevamo farle definire però anche qui bisogna capire che invece ci vuole rigore noi ci abbiamo messo del tempo tutti noi a capire cos'è l'interdittiva e perché è importante perché arriva prima della legislazione repressiva arriva prima di una condanna che c'è di 10 anni l'interdittiva è un intervento tampone che faccio subito per evitare che tu possa arrivare a fare quei danni che poi ti porteranno ad essere condannato ma per essere condannato devi aver ammazzato rubato e noi cosa facciamo aspettiamo che rubino la legislazione italiana è una legislazione molto garantista migliore di qualsiasi di tantissimi altri in Europa ma anche molto più avanzata sul fronte della prevenzione alla criminalità organizzata e quindi dobbiamo utilizzare e capire che le interdittive sono strumenti importanti di fronte alle interdittive non si va ad aiutare l'imprenditore che ha ricevuto l'interdittivo anche perché la licenza italiana è semplicissima se un prefetto ha abusato infatti di dire che ha sbagliato non fai ricorso al tar e mi cerchi di spiegare le motivazioni per cui e se anche ti ha dato da torto vai al terzo grado a professione di Stato l'interdittivo che prende coscienza di ciò che è successo non progressivamente anche per piccoli pensi questo dobbiamo curarci che ci porti a mettere in su quegli antipologi per almeno capire qual è il tipo di malattie che dobbiamo combattere e quindi per quel fatturato mafioso attuale probabilmente secondo me si dice dobbiamo la speranza diciamo che questa l'ultima fino adesso se fosse portata in borsa prenderebbe delle centri altissime perché è probabilmente altro e dobbiamo sperare che la risca o secondo lei la risca assolutamente ma secondo me è sacrosanto quello che mi ha detto la drangheta non dà richiesta la drangheta prosciuga prosciuga porta via si nasconde o punta uccide le prospettive del territorio che non danno di nessun cosi ci fermiamo ringraziamo ringrazio Paolo ringrazio le ragazze del Movimento Genderose stiamo organizzando già le prossime iniziative quindi state informati come si dice che ci saranno altre opportunità che sono per appuntunire così bene grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti